Ciao Sean Scusa Sean dimmi una cosa Ma lo puoi mettere 1080p Perché cioè boh io sto guardando dal telefono Mi fa mettere tra i 60 Non so se si ha un Ah no ok 7 e 20 Aspetta un attimo Aspetta un attimo Aspetta un attimo Sì distrutto Addirittura Comunque ditemi se si vede bene per piacere Perché tipo ho cambiato delle impostazioni Ora dovrebbe essere 1080p 60 fps E poi Ora Allora Aspettate eh Connect Si Copia Incolla Connettiti E Provate a fare ora coins Potrebbe addirittura funzionare ora Wow Incredibile Allora Dopo Aspetta Sean Arriva Tipo Aspetta 5 minuti Così arrivi a 10 coins E dopo Prova a fare flip Cioè anzi Aspettate Scusate ma io quante coins ho Wow Ne ho 5 Aspettate Prova a vedere Allora Comandi Ah Fatemi bere Perché No Si può fare Flip Però non so Come si faccia a decidere Con quante monete si fa Flip Flip è Testo croce Lancia la moneta Se vinci Ti raddoppia le coins Che hai usato Però Cioè tipo Scrivi flip Forse bisogna scrivere Flip 5 Vedi Ecco Voi fate flip E roll Invece è la stessa cosa Però con i dadi Devi scrivere roll 3 E Ciao Cortner Funzionano tutti i miei comandi No Cortner Voglio fare un po' di Anzi si Vieni Facciamo 1v1 Nel titolo della live Intanto mi devo scaldare Comunque guarda Cortner Ho messo tutte le cose fighe Allora Adesso tu scrivi Punto esclamativo Flip Spazio Il numero di monete Che vuoi scommettere Prima guarda quante Dove sei? Prima guarda quante Quante monete hai Tipo Boh Ne avrai Probabilmente 5 Come gli altri Perché no No Non puoi fare Flip 4257 milioni Ah Ciao 2 160 monete Non ce li hai Cosa fai? Ti scommetti la casa Ti scommetti Con calma Con calma Che qua non è che possiamo diventare dipendenti Del gioco d'azzardo Scusi Io volevo Sol Cortner Hai vinto o no Quindi? Ma cos'hai Vincono tutti ora? No Basta Hanno perso Come l'ho detto Sean Ma non devi Ma non devi mai puntare tutto Si vede che non sei Senti zitta Ma perché mi stai No Reiz Puoi dirmelo È che sono un hub Ah L'hai scritto con una B Mi metti mod A me più che altro Che io ci sono sempre In tutte le linee Sì a Cortner Lo metto mod Ciao due Eh Se fai il bravo Quando avrai un bel po' di monetine Diventerai mod Se magari Mi regali qualcosina Al nostro amico Cosec Lui potrà pensare Di No No non sono così Allora Poi ci sono Ci sono Aspettate Ci sono altre cose carine Ehm No di verità Adesso ci sono solo queste due Roll Ma cos'hai Roll paga Roll è Tiri dadi Quindi Cioè devi fare roll Poi un numero Da 1 a 6 Se lo indovini Ti dà 6 volte Quello che hai puntato Cioè se Fai roll 5 Scommetti sempre 10 monete È fisso quello Come la città Come la città Guarda Se la città Allora roll I dadi Sì Devi fare tipo Roll 3 Bravo Roll Roll 3 Se voi Indovinate Credo Vediamo se mi risponde Questo stupido bot Che sei tu che poi rispondi No come sono io Sì sono io ma è il bot In realtà Ma punti tu Cioè punti tu quanto O roll 3 Ti da tutti i coins Sky No teoricamente si dovrebbe puntare 10 A prescindere Però sinceramente non ho capito Come funziona Roll Forse roll e basta E flip E flip Flip devi puntare tu quanto vuoi Il pc l'ho pagato 1100 Più o meno 1100 fa 500 fps Sì Non mi chiamo corda Ma cos'hai preso Scusa Iscriviti al video 2060 No 1000 Ma Scusa Quanti giga Per dire ormai 16 Ciao Matteo Torre Hai visto il nuovo sistema Di monete Scrivi in chat Punto esclamativo Coins Così vedi quante monete hai Sì ma Mi spieghi E comunque Matteo Torre Per informarti Oggi ho fatto un bellissimo Esame all'università Flip che cosa fai Con chi scommetti scusa Allora Fai punto esclamativo flip E tira la moneta Testo croce Ti dice se hai vinto o no Ti dice sì o no Ecco esatto Hai usato tre monete E hai perso Eh ma quindi Non vinci niente Come non vinci niente Se vinci Te ne dà il doppio Se io faccio flip Flip due Se vinco me ne dà quattro Se perdo no Me ne dà zero Mi dai un po' di Hai perso Ma è schifo Torna a lavorare Flip tre Visto Flip tre hai vinto Sei coins Ma che ne so Ma che ne so Ecco forse ce la fai a vincere una volta Ma ne ho cinque Che tristezza Ma se ne ho appena vinte sei Sì Ora Ora ne scommetto due Vai La mia impresa sta per nascere Tra tre Due Sì Ma non hai Come fai ad avere trentamila Flip back Non ci credo Dai Sì Sono fortissimo Sì ma scusa Fai il comando coins Ora che hai vinto tutte queste coins Sì Ecco ora dovresti averne un botto Fai il comando Fai i due coins Ah sì 12 Sono fortissimo Io li ho caricati 300 euro Vabbè Sono pochi Dai Poi c'è anche il Tipo la rapina in manca Però sinceramente non ho capito come funzioni In che zona andiamo? Se ce l'hai tu Sennò metto quella di enigma Sì Metto io Però devo mettere ancora un secondo lo spawn Se mi lasci due secondi Dimmi le armi che vorresti Sì sì vai pure Eh non lo so Metti quello che vuoi Qua è questa la tua Metti di tu Metti un po' di Io a me piace il bomba Quello che sbeccalontà il bomba combat E Metti una R blu o lo scar O quale Tanto voglio vedere Perché non funzionano i dadi Ma perché non c'è scritto cosa devi... Cioè è tipo flip 5 L'ho inventato io Se no non c'è scritto normalmente E' quello il problema Allora dispositivi Sono un po' scarcio io in queste cose Hai visto il nuovo coso che è uscito? Che tipo spara a 9000 razzi Ciao entity Ho messo i comandini eh Così adesso puoi farmarti le coins E puoi fare Se fai il punto schermativo flip Puoi tipo tirare il flip E poi il numero di monete che vuoi scommettere Puoi tipo tirare la moneta E E fare punticine Allora Questo qua Allora dimmi che armi vuoi dai Combat Dai combat e scar Basta solo quelle due Combat e scar Posso prendervelo nel pompa? Sì 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 Tu prendi quello che vuoi Ok Eh la live la finisco Non lo so Non lo so Ho iniziato a tardi Almeno a luna Penso di arrivarci Magari fino allo shop Anche se tanto io non shopo niente Andiamo fino allo shop Per cosa? Boh Per guardarlo Faccio visual Ah che bella questa skill Meno male che non me la posso permettere Aspetta un attimo Se io scrivo Tu stai fermo Cortner Allora reward 10 Ne do 10 a tutti? Vediamo Oh visto Bravissimi Avete vinto tutti 10 monetine Perché siete stati bravissimi Sì faccio un po' di 1v1 Con sto scemotto di Cortner E poi vediamo Se no farà Marco Marco Ah posso anche cambiare Nome alle coins Non è che devo partire C'è tutto un casino Poi regala Prova a fare Reward 10 Reward 10 E poi scrivi il mio nome Magari funziona Magari funziona Eh mezzanotte tra un'ora Ciao Eh Non è che Sia così tanto Mezzanotte Eh sì Io sono stato tutte le live Da quando ho iniziato Roll 4 Dai ti prego Funziona Funziona Hai perso 4 coins Si Roll No ciao Se sei costante Ti vedo spesso E Sì ma almeno i mod Poi mi fai vedere Tante monetine Cosa vuoi dei mod? Cioè sei già mod? Ma scusa Se io faccio reward No no A parte che l'ho tolto La reward Quindi non puoi farlo Ah ok Anche entity Già entity Cioè sempre Entity c'era anche Quando facevo le live vecchie Tutte brutte Quindi Entity è bravo Oh Se per sbaglio funziona Se per sbaglio funziona Ti ti Ecco Ti faccio cose brutte Pazzoide Dopo voglio provare il Cioè tipo il colpo in banca Però non so cosa voglio dire Cioè qua ci sono scritte delle cose in inglese Dai Io l'ho abilità un attimo No Basta Punto tutto Mi sono rotto le pavole Magari ti potessi comprare un gelato con quelle monete Cioè non ci scherzerei Dai Payout Tax Scusate un attimo Banche Questo lo sto provando un attimo Ma non so cosa voglio dire Cosa ho scritto Lol Ho scritto coins9 Ah guai Potete fare il colpo in banca con me Infatti Punto esclamativo Banche Ace Come è scritto lì E Tipo boh 5 monete Quelle che avete E vediamo cosa succede Cioè tipo teoricamente Io ho una sola moneta Quindi Cioè L'1 Il 2 Il 3 Il 4 Di cose in banca Poi Poi Li riscrivo in italiano Ora sono tutti scritti in inglese Se robe Ti sento laggare Sto laggando Io stai laggando te Io ho uno di ping Quindi mi sa che stai laggando te Sinceramente 1 19 Allora il gioco Vieni su disc Per fare il flip Basta anche una moneta Entity Ti chiamo su discord Perché ti sento Troppo laggare Ma adesso Tipo cosa ho fatto Cioè Perché ho 0 coins Boh Un attimo E' stato scammato Non lo so Sean Ma non ho uno di ping In realtà Il ping reale Lo vedete da qui Ne ho 24 Non che mi lamenti Di 24 Però non è Di quanto ho di ping Credo 29 Come sempre Bravo Entity Io ci ho messo un casino Alla stessa Cioè non ci ho messo un casino Però non capivo Sta cosa del bot Poi ho capito Che sono scemo Che palla Entity sta vencendo Ora io Sì ma il colpo in banca Non finisce mai Ho perso un soldo Cioè io ho perso un soldo Dove me lo dare Questo soldo Per favore Eh devo Ora faccio Con un altro account Eeeh Non so Come si chiude Il colpo in banca E mo cosa Spagando così Cosa abbiamo fatto Non lo so Adesso devi regalare E un coins a tutti Io voglio uscire Da questo account Boh Facciamo che La cosa in banca Lo disabilito Ok Poi Vi vediamo la prossima volta Sì Però dai Un 5 coins a tutti Sì Così almeno Poi ne ho tutti a 5 Soprattutto io Che io voglio di Tu non mi devi fare Ste cose fighe Ah grazie Così potete Flipparle subito E perderle tutte Dai 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 Flip 9 Dai No Ho perso Cazzo Ma perché a me non l'ho fatta? Ah ma non c'ho Non c'ho 10 monete Sinceramente? Le ho appena date Dai ti prego Dammi le 2 Dammi le 2 Ti prego Per colpa di sto show Ma perché ho 5 Ah ma perché È vero Li da a tutti Ma a me no Non si fa Ciao 2 Non credere di essere mod Quello lo devo scrivere io Ma di me Io avevo provato Il messaggio Basta Cazzate Cortana Era il momento Del 1v1 È il momento Di essere clappati Ah ma lei me l'hai messo Direttamente in mano Sì sì Te l'ho messo in mano Ah è vero Che io sono abitato Ad altre 1v1 Altre postazioni 1v1 Con il taglio di capelli nuovi Avrai espulso dal tuo corpo Altri Speriamo È due in grande Non può sta mappa Perché è troppo corta Cioè Da una parte è lunga E dall'altra è corta Non credo neanche sia un cubo Eh? Non credo neanche sia un cubo Sulla cosa No sì è un cubo Oh scusa L'hai fatto a mano O l'hai fatto con le barriere? Eh? Io l'ho fatto con le barriere Ok Cioè l'ho fatto come un'altra persona Con quello Per niente nel mio team C'è uno che fa le Che fa le mappe Fa le mappe Sembra una cosa lost Esatto Ricordi in banca di cose Che non funzionano Dai che parla Adesso mi prendo anche Quei pompe Ma se vuoi prendo io l'altro Non mi vuol dire No no Ah ok Uno con tutte e due pompe Di nuovo Devo capire come togliere sta roba E devo capire perché su streamlabs Non mi appare la chat Dimmi che ho vinto altri coin Ti prego Cioè devo tenere Google Chrome aperto Tiene tutto aperto Non ci credo Ma ho una 36 coin Oh oh è partito il colpo in banca Cos'è? Io 13 coin Sa caso Boh Ne faccio 10 Come no money for us? Quindi il colpo in banca è fallito Improbabile Non è male che l'ho disattivato Sto schifo Dai dai no Che palle Che palle Che palle Che palle Cioè boh Io sto prendendo tutto Fra Basta ora mi gioco la carriera Tra Dai dai Che faccio 6 dai Che le ho perse tutte Ma questa mi sembra Eh porca Cioè boh Io sono povero Basta Sono un povero uomo Eeeh Pensiamo che si usano Tutte e due Però voglio fare così Voglio fare Dov'è? Eeeh Avanzi No Eeeh Impostazioni Non voglio che scriva Con il mio account Voglio che scriva come Cioè come bot No Non so se ti convenga Perché? Perché è più figo così La gente si sente un po' più Contatto con Il coso Ok Va bene Più che altro Se lo devi fare Soprattutto perché Il giallo È un po' troppo accecante Ah infatti No Stipo il giallo Vabbè Vabbè Quanti coins ho ora? Cioè credo Zero Sean sta perdendo tutto Ci godo Per quanto ti voglia bene Che sta perdendo? Ci godo Sean? Sean? Sean aveva 36 coins Perché hai Cioè a 20 Cioè a 20 C'è quel tipo Che non c'entra un cazzo Che è arrivato ora Ciao 2 No Non è vero Non so Io sto prendendo tutto Ho bisogno di un prestito Cosec Ti giuro che ti ripago Aspetta 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 Si può fare Allora Sponsors No Si può fare Una specie di giveaway Però potresti Potresti darmi 20 coins Ecco Aspetta Aspetta Farmi tutti Non usate Non usate un attimo i comandi Dopo facciamo uno Allora Non usate un attimo i comandi Vi do 10 monete a testa E poi proviamo Il giveaway Ok Se trovo dove si danno le monete Tu potresti dare soltanto a me 20 coins Voglio provare a giocare Ah Soltanto a te non do niente Tanto per iniziare No ma Intanto li spreco tutti subito No 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 Fermi Ok Ve ne do 10 a testa E poi Ora dovete fare Aspettate che devo attivarlo Giveaway Ah Titolo del giveaway Cortner Scemo Comando è Punto esclamativo Cosa che Allora tutti possono entrare Costa 10 monete Dura Un minuto Ok Trova Sto usando Streamlabs Cosa e Fuss 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 bot Cortner Is bot Il vincitore Vince Un cortner 5 No 60 monete Così Così se le flex Tutte in chat Però ragazzi Quello che vince 60 coins Scrivilo Facciamo Ciao Freezy Facciamo 5 minuti Perché così è più Si sente di più il rischio Dai 4 minuti Dai Allora Basta E aspetta però Perché non sta Non sta dicendo Ciao Fag Mi è ritardato Fag Cos'è Arrivi tardi Sto no Sto funzionando Sto funzionando Sto funzionando Mi è venuto scritto Non so perché non Non scriva Ciao 2 probabilmente Ha perso 30 coins No calmo Calmo Ciao 2 Lo sai che perdi tutti Ah si mi ricordo Che mi hai mandato la foto Frizy Ehi ciao Lo sai che ti ha già Che ti ha preso Ti prende tutto Eh fra Cosa Ti prende Per ogni volta No 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 Mi sono singolo Mi so che si può fare Solo una volta Tranquillo Zitto Fag Ok mancano Tra 2 minuti e 50 Saprete Eh beh Ecco appunto Mettete anche un po' like Perché ho 4 like Aspettate che me lo metto Un attimo da solo Voi Nella live Nella live Ok vai Vieni Facciamo 1v1 Che se aspettiamo Nella live di una Ho scritto questo comando E me l'ho bannato Che comando Che comando C'è questo comando Non c'era questo comando Scritto Ponte esclamativo Tette Nella live di una Minca 24 Oh cazzo Oh cazzo In video Ma fai provare l'altro Fai provare l'altro Fai provare l'altro Ora faccio anche Pompata Non Ma io uso Tutti due pompa Infatti perché Cos'è una tattica Segreta La uso anche in arena Quando Li tengo Tutte due Però In game Uso il combat No no Ok Più che altro perché È da lontano Il combat No 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 Come un po' come tutti gli altri Esatto Dicevo che La mia dieta Non è stata l'altro Ma perché Perché Tu sei sempre Nel momento Sbagliato È finito È finito Oh oh 30 secondi Ok Se mi dai Iconic Pwonder Ppac Reflex Ti do Quella cosa che finisce Con P Cioè che inizia con P E finisce con Isello Ora ti devo far sentire Una canzone Ok Eh fammi sentire Sicuro Cos'è Cos'è la canzone Di tuo cugino Napoletano Scusa Andora Cosa Igenboy Igenboy Non sono Non sono Copyright E Shon Ha vinto Presante Shon Ma ne va Mandano Il coin Le coins Shon Voglio vedere se te le ha date Etericamente 60 Ne ha dato Zitto Ah ma me la ricordo Sta canzone Ascoltavo L'elementare Minchia Shon Come flex 99 coins Ascoltate ragazzi Dai basta Deva sto casino Rottore Pagli Coglioni Me lo dai anche? No Oh basta sto casino Basta 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 Vai Filippo Io spero di avere un coins Si Ce l'hai Ma esattamente io non dovrei avere tipo i coins infiniti Cioè cos'è? Puoi autoregalare Fai reward E poi metti tot coins E metti Void Cosec Ma non ce li ho un coins Etericamente c'è anche tipo una arena In cui uccidi Della gente Però non ho capito come funzioni Cioè se sono due Cioè due Divo in chat O se sono uno in chat Contro Il nulla Non ho capito Ci sono delle cose strane Ma come funzionano i coins? Te ne dà Uno al minuto E' una cagata fra Toglilo Perché? E' troppo tanto Cioè Poi la gente La vedi in chat Spammarsi tanto flip 1 Flip Cioè una palla Fidati Vabbè Quando succederà che tutti Flipperanno Flipperanno Flip 1 Metterò Il time out Si può scrivere Un solo comando Ogni 30 secondi Ma comunque E' impossibile che uno al minuto Perché sono da 29 minuti Live E io ho speso tipo Già 20 barra 30 coins E ne ho altri 26 fatti Soltanto col tempo Non ho vinto nessuno Ho dato reward Dieci due volte E l'ho capito E' troppo E' fatto reward Dieci due volte Io ti ho speso 30 euro 10 euro 26 coins Sono 36 coins Più o meno Per 29 minuti Adesso li spreco tutti Te lo dico Voglio vedere in quanto tempo Si rigenera Va bene Tanto a me non frega niente Sì però se li vinco tutti Che palle Quando non voglio Vincere Ho sbagliato Non credo che me li flippi Anche perché No non Credo no O se li flippi No non fa niente Rip Sean Ho battuto Sean O se li flippi di nuovo Ok Ok Adesso faccio coins E sono le 23.08 Ok Ah se possono anche creare Dei rank E dei Come Custom commands Cos'è Come faccio a creare Un custom commands Traveni Ah new rank Ah che bello Rank name Ehm Ma tra un attimo Facciamo uno no E poi vediamo Per favore Che almeno voglio Aspetta 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 Uno Rank name riccone Facciamo che Il primo che arriva A mille monete Si becca Rank riccone Così a caso Ah come quello che ha Waneda se non sbaglio E il primo che arriva A 15 ore Di live Guardate Si becca Il cane fedele Il cane fedele Cane Fedele E quello che arriva A mille ore Fai i puzzi Tipo ho fatto una vita C'hai ragione Quello che arriva A cento ore Fallo perché intanto Se fai live Spesso magari Ci arrivi anche Quello che arriva A cento ore Hai Fatti una vita Ragazzi Che arriva Fatti una vita Vuol dire che Anzi a cento ore A cento undici ore Fatti una No no C'è un nego Il cazzo Cioè Ok vediamo Quanti coins Che sono passati Due minuti Ok C'è un minuto È passato Vediamo Due minuti Erano gli otto Sono i dieci Eh no Ma era otto Praticamente nove Ho visto che era O zero coins Allora te ne da Te li da Ogni otto minuti Non te li da Ogni minuto Anche secondo me Tra un po' Ti fa lo scatto E te ne da Tipo tredici Mi pare Vieni Anzi no Guarda una cosa Un secondo C'è scritto Quando Cosa fanno Custom comments Come faccio Ah ci sono sul sito Degli altri Ma quando fai Rewards Puoi cliccare Su qualcosa No 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 Non posso darli A una persona Singola Cioè posso Darli Dall'applicazione No Posso andare su Viewers E lo fai così Con te Vabbè ma A parte che Non c'è il mio nome Sì vanno Di tredici In tredici Minuti E quindi Anche le coins Tipo Cortner Posso darti 5 coins Vediamo Ok Guarda Fai coins Dovresti averne 5 Per ora Il leader di coins È Sean Con 111 Poi c'è Entity Con 46 Ciao 2 Con 41 E Cortner Con 0 Cortner Con 5 Tenete 5 Anzi Ti riesco prima Dai ci facciamo Non ho più No Sì 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 Arriva Ecco 1 a 1 Ce ne sbaglio Aiuto Aspetta 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 Mi stanno chiamando Un figata Streamlabs Con le live Cioè puoi fare Sponto le live Qui dai coins La gente Li scommette Ci sono altri Poi c'era scritto Che ci sono altri Comandi Sul Sul sito Tipo Poi guardateli Quando vuoi scoppare Tipo Quanto hai di vita 1 12 Ti porterò A palazzo Ti mozzerò Il mio Carro Pandora Ti porterò In caserna Assaggerà Il mio Special Io Strichè D'amor Pandora Ti porterò A palazzo Vediamo adesso Quante ne ho Sono passati Tipo 5 minuti Conta che 5 Te gli ho dati Io Ne hai dati Tu adesso Sì Devono ancora fare Lo scatto Perché Ne da 13 ogni 13 minuti 13 ogni 13 minuti Sì Vediamo Sì Tipo Pandora Ti porterò In bottega E mi farai una Seria Discussione D'amor No dichiarazione D'amor Vabbè Ma tu non li ascoltavi Da piccoli Gemboy Li ascoltavano I miei Amicchetti Delle medie Ma a me Stavano Sul cazzo Sinceramente Ma fa quasi Fra Da lontano Fa più danno Il pompa Del nonno Che il combo Da quella distanza Te l'ho fatto 76 Con il pompa E con il comba Ti avrei fatto Massimo Non capisco perché Ma quando sono in live Cioè Mi fa tipo Delle micro Lagate Miro di merda Che ne sono Aspetta Hai Hai 21 Hai 21 No no Se perdi Perdi Sean Cosa 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 Ti ridò I coins Figurati Comunque Non mi ricordo Prima Mi hai detto Forse Tu qualcosa Il fatto Che volevo Recloccare La La Ho sbagliato La La scheda video Cioè La scheda video Il processore Mi hai detto Tu Forse Qualcosa E che Se non è Se non è K Non puoi Overclock Non puoi Un attimo K Cosa vuol dire Il modello Se non c'è La K In fondo al nome Non puoi Overclock Ma poi tanto Cioè Overclock Sarve Relativamente Devi avere Sì Ma si scalda Un botto Devi avere Un buon dissipatore Infatti Ma probabilmente Lo farò Soltanto Per No Lì qui Te lo lancerò Punto Cazzo è Perché T'ho lanciato Così Non lo so Visto che Schizzavi Via Uff Aspetta Mi stai aprendo Come un mobile Delicare E roll Roll Sinceramente Non so come funziona Aspettate Provo a scrivere Fusbot Roll Intel R Core TMI5 7500 CPU Pioccella 3 40 Giga Giga Hertz Che Palesce Non 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 L'MFAO Sai cosa vuol dire L'MFAO No Give my F***ing S Mamma mia Sei fortissima Vediamo ora Quanti Ne ho Sempre 5 Basta Io me li Filippo I 5 No Non me li Filippo Aspetto Di averne Raga Non riesco D'usare Il Il Roll Aspettate Forse Qua c'è scritto Qualcosa Devo Devo provare a fare Sta roba Allora faccio Pam 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 Ah perché non è Punto esclamativo roll È punto esclamativo roll Dice Mi sa Cioè non so perché Proviamo Roll Dice 3 No Non è neanche roll dice Bè Devo capire come funziona sta roba Allora tu fai Pam 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 Cosa stai facendo Cosa fai E' quello in cui praticamente modifichi Guarda ti faccio vedere Sono sopra Ti faccio vedere Guarda fai così Fai Pam Poi fai così E così Però non so come si va avanti Cioè Cosa vuol dire Modifichi quelli e poi E poi fai una cosa strana Tipo Modifichi così E poi fai tipo Dovresti farti un uno per uno E poi Modificare E andare avanti Ma cosa la roba di Zwei Dici Così E poi Apri No 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 Non è quella roba Quella cosa che fanno tutti i gay Per fare Per fare Allora cosa Ma no non quello Tu dici Tu dici Tipo questo Allora Ce ne sono due Tipo da quel che so Fai così E poi fai una roba Del genere Però veloce Conosco questo E poi Conosco una roba tipo Così Però non mi ricordo come va avanti Se non sbaglio Così Adesso fai così No perché altra devi farlo Quando c'è il doppio Così Quando stai facendo il doppio tunnel così Metti Piramide e pavimento in cima Poi mi pare che li editi Così E poi Cambi direzione così O no Mi pare Mi pare sia così Se no c'è anche questo qua Che non Non ho mai provato a fare Tipo Che fai Pam 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 Poi ti attacchi a questo E fai Non so Sinceramente Boh sinceramente Mi sembrano puttanate Sì Io penso Prendere l'altezza Per far vedere Tipo Per fare provini Quando devo fare le cose La gente mi aspettava Guarda Ciao Due ha detto che lo sa fare Domani te lo insegna Hai guarda Fai i modifichi così E poi stai così Tipo una cacata Che ho imparato a fare Per fare scena Fai Fai una roba giusta così Pam pam Va bene Vieni qua Che poi sono cose Che non se Che sono Che se la gente Non sa fare Le reti sono scarse Però nel frattempo Li battene uno Vino Quelli che li sanno fare Tipo Flicky Che sta facendo scena Da return Ci ha fatto Che lo fare Come un monco E una roba 40 e neggio 40 e neggio 170 Io ho sparato Proprio il colpo a caso Sono 121 Sono 121 Le reti mi dovrebbe dare Ma si C'ho due Lascia perdere Su questo stupido Corpner Eh guarda Se te li ha dati 31 fra Cioè Non ha senso Eeeh Minati Te li ha dati 26 Te li ha dati doppi Ah ma no Ma no Perché i moderatori Li prendono doppi Ah I moderatori Hanno i punti doppi Mette le treple No Credo Mi pare Ragazzi Scommettiamo L'affanculo Basta No ciao due Non ti faccio mod Ti ho detto che Se sei molto bravo Forse ti faccio mod Ma adesso mi faccio un singolo Grazie Complimenti Ti abbandoni così Il piccolo Cortner Sì Grazie Complimenti Mi sto spremendo gli occhi No fagiolo Oh Filippo Non ti invito Cos'è Oh madonna Sta modalità fa schifo Cosa ci si abbia oggi Che palle Oggi ho fatto delle Volevo clippare Perché prima di partire Volevo fare un video Niente Non so usare Quindi Non ho fatto Nessuna kill bella Né con la R Né con la niente C'è un paio Solo Ma boh Solo perché c'è solo Sto scherzi E' iniziato che sa schifo Proprio Ciao Ciro Aspetta un attimo E ti faccio subito mod Gatta giusto 5 minuti Oh Cazzo vuoi Cavaniere nero Cavaniere nero Basta Cavaniere nero Tutto bagnato Ma Non sei credito Metti in time out Cirus No Cosa fai Cosa metti in time out Sei scemo Stai scherzando Basta Rimuori Il primo che arriva a mille coins Niente Un abbraccio Caro abbraccio Io voglio non flipparne uno Va bene Ciao Se mi regali qualcosa Ti faccio mod No Ammazza Di scusa Cosa Oltre che io ti ho regalato qualcosa Cosa mi hai regalato tu E poi A parte che tu sei mod Cosa vuoi Mi hai regalato Ti ho regalato il balletto Tipo quello che Cioè John Wick Che si schiaffeggia la pancia Perché ti volevi un po' Schiaffeggiare la pancia Esatto Che so che hai un po' di problemi Comunque le sto vincendo tutte Fra Boh con un coin se le vinco tutte Con 104 Qualcazzo Ne hai vinte tre di fila prima Sei arrivato a 104 E 104 non è un caso Ah ma John inizia a perdere un po' di roba Sean sceglie la via del rischio Esatto Sean Escimi un flip 50 Dai Sean Esci un flip 50 Eh Sean sei stato sfidato A questo flip 50 eh Cosa fai Ti tiri indietro Io ho flippato 50 Prima e ho vinto Flip 50 Ha flippato Ha flippato Ha flippato Comunque secondo me Entity 303 Lo fai Lo fai Sean Lo fai Intanto ci metti poco A riprendere tutto E' un coin sal minuto Basta che lasci la live accesa La live accesa Devi guardarla Questi sono dettagli Infatti tipo la live di blitz Si la sto guardando No a parte che Che cazzo tira A parte che non potete lasciare la live accesa Perché tipo Se non scrivete In Quel tot In quei tot di 13 minuti Vi contano attivi Dai che c'hai uno di vita Per piacere Non farmi danno Non ci credo Ho vinto Ho vinto 100 coins Ora Ho vinto 100 Dai Filippa ne 100 No La sfida era 50 Lui ha accettato L'ha fatta E ha vinto Adesso non è che è obbligato Però poi mi devi sfidare tu Adesso Sean Può flippare Quello che si sente Esatto Vuoi che flippi qualcosa? Ti mostro quello che io posso fare Lo so che non è molto Ma ci sto lavorando Cos'hai flippato? Uno? Cinque coins Dai Se vuoi Faccio piazza pulita Dei miei coins Solo per te Un piacere Scusate Ne volevo fare un altro Quello proprio No non bere Non bere Non bere Mi dispiace ma non posso fare Qua si parla di Di forni Di forni Che costano veramente qualcosa Mamma mia che double kill Hai visto? Che qualità Esatto Poi con la live Io ce l'ho quanto Ah però questo mi piace troppo A 2040p Izz Come 2000 Cosa vuol dire 2440p Izz 240p Ma si possono fare le live in 4k? Cioè Però hanno tipo la latenza aumentata Leggi sopra Leggi la tu Leggimi se qualcuno scrive qualcosa Che Non ho senso Lo sai che si è Un attimo Voglio vedere una roba Chi è che vuole perdere un po' di coins? Oi Enti ti ha flippato 25 Vediamo un po' Metto la corsa automatica E leggo la chat Forse più tardi Ora voglio fare un po' di singoli E al massimo qualcuno Chi è che voglia di perdere un po' di coins? Cosa vuoi fare? Cosa stai tramando? Vuoi derubare dei bambini? Allora Ciao Devo vedere una cosa Esci coins Fai coins Io? No 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 Ciao 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 l'equipattina Hai 53 Ok Ora Ti metto in time out E vediamo se perdi dei coins No no Non mi pare Ho messo che non ne perdi Se ti mettono in time out Ok allora Teoricamente Poi non lo so Hai perso zero coins Sei felice? Oppure sei andato a zero coins Esatto Poverino perché l'hai messo in time out Ma non ho messo in time out Ma come entity ha finito i coins? E flippati gli ultimi E ha perso Questo è gioco d'azzardo ragazzi Non si fa Entity il prossimo passo sono le chiavi della macchina Poi quelle di casa Esatto Poi venite la moglie E Basta ragazzi Io ne flippo una Mi sento molto azzardato oggi Così Ho vinto due coins Questo è un buongiorno Vorrei cercare dei nemici Più che altro Oh qua c'è uno Ma che Madonna Eseguitono i player che hanno ping di te però Hanno meno ping di te No sono ecco smirato No sono ecco smirato Giro soldi si sente molto azzardato Vuole flippare 5 Vediamo un po' cosa Hai vinto 10 coins Ora ti puoi comprare Allora se vinco sta partita Facciamo un giveaway come quello di prima Con Con Che costa Che costa Stavolta lo facciamo che costa 20 monete No facciamo che costa 5 No No Facciamo che costa 20 monete Quindi non sprecatele Anzi facciamo che costa 10 Perché 20 non ce l'avete Tutti Cazzo cosa stanno facendo questo Cazzo cosa stanno facendo questo Cazzo cosa stanno facendo questo lol no ciao amico ecco cosa dovete fare per entrare nei void e saper organizzare così bene una live hai visto quanti ti coincini esatto fra sai quante specchietti fai se la gente per adesso è 5 vabbè perchè è la prima live scrivi tipo nel titolo fortnite e poi sopra c'è scritto potete azzardare i vostri coins fortnite più gioco d'azzardo la prossima live la chiamo esatto e fortnite più gioco d'azzardo legale no illegale legale poi chi ci no no dio e però le mamme pancine che dicono cosa sta succedendo cosa sta succedendo dai che sono bloccato fammi uscire basta la smetti di scappare ma poi come fa ad avere lo scudo infinito oh cirrus ha vinto 80 coins no basta cioè ora cirrus li impegni tutti fai un po' tutto comunque sean ti chiede di fare appunto sicuramente io ho ma io ne ho ne ho poche ma sinceramente a me non le sta dando perchè io non sto guardandolo live quindi io ne ho sempre 5 coins oh sempre lui eh madonna posso dire di 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 bella ho ucciso cupra poi appena muori poi appena muori ti chiedo una cosa te la posso chiedere anche ora chiedimi cosa no magari poi preferisci non puoi ma le puoi creare tutte queste cose cosa non puoi fare che eh ce ne sono si possono anche creare le persone infatti sul sul sito del del programma teoricamente ci sono anche degli altri comandi creati dagli utenti se non fai tipo una roba che con i coins puoi comprarti le cose si c'è si c'è e e e tutte le cose tipo rubi gli altri gli altri per tipo con 200 coins prendi una pistola con la pistola puoi derubare la gente no teoricamente c'è la roba che volevo provare dopo c'è cioè dopo poi un'altra volta c'è la roba del dell'arena lì con cosa cazzo mi ha colpito dico appena muori poi ricordati di fare il giveaway no ho detto se vinco ah ok ma qui si timma no? si no non timmavano non si vede da niente ma è invisibile? è il soldatino ah ok è per questo che l'ho shoppato poi l'uso grigio così a caso però verde è fortissimo eh si ne metti soprattutto qua non c'è altro tipo quando sei in mezzo alle costruzioni quello grigio si vede meno di quello verde quello verde si vede meno nell'erba però sai cioè alla fine nell'erba se vuoi cosa c'è di nuovo modalità? non lo so ah c'è scivola che fa schifo no si fa schifo io l'odio mi dà troppo sfide chi è? chi ruschi non capisce che ha zero coins e non può flippare se non ha coins un key way un key way corta nervo un key way ma lo sai trampolini? ti sto venendo a prendere signore sulla piattaforma volante no 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 no, questo è che gioco stava giocando? Ecco tipo armi Oh l'oggetto nuovo No no c'era uno qua sotto Se poi dopo mi repute abbastanza forte per farmi fare un'arena Te lo faccio provare a endgame Che è tipo la cosa più grande Devo provarlo su quello là sotto ma l'ho mollato per sbaglio Quando mi ha sparato quello Quindi io non ho preso niente Dove è? Ah è lì Ho paura dell'altro Nooo potevo rompere Vieni qui pallina 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 Questa valla devo perdere sicuro Oddio Ma come io le sto vincendo tutte però Ma c'era uno là su in cima No allora Non le flippo tutte perché poi voglio avere i coins Per fare il giveaway Non è troppo di fine Ho perso Dove si sta infilando questo dio? Bello Ma è una schi meraviglia? Ma è lo sogno Ma non ho capito qua dove si vola dove non si vola Però quello mi fa cadere E' una schi meraviglia Oddio Praticamente Per due settimane di seguito Perché ho bevuto due scudini Ho 49 di scudo Questo è il gioco d'azzardo, se veramente vi trovo di segnalo Corri dall'albero, ora come scende? Scende cecchinandomi No, è già sceso Che cosa fa questo ancora qua? Oh, è il gioco C'è il gioco Cosa è la skin meraviglia? Che è sta skin meraviglia? Quella è la nuova Quella del telefono Wander Ho la pancia che mi stai fermando Se clicco tutto Ti sciocco, ti sciocco per me 200 Perché ho 49 di scudo? Datemi 50 Spagati subito Stupido Stupido Oh Oh Calma Ma se faccio così Vole si butta Che Stupido Contest non legge la chat mi intera tutto riferito su me nessuno che ti chiede ormai sono io dai dammi lo faccio io lo live guarda nel sefilippo tutto ti shoppi lo shop per un mese non ho capito cosa sta sefilippo sefilippo tutto la madonna Sean che cazzo è si ma infatti ho sfidato Sean a flippare 200 prima quando ne aveva 210 allora adesso 10 monete ce l'avete tutte allora dove va no Ciro se ne ha flippate 10 ah ok meno male le vedi no col cazzo mori no Ciro se ne ha flippate 10 oddio ma questo perché l'hai visto prima tu cazzo c'è l'ho lasciata in ritardo fermo Ciro fermo Ciro dobbiamo fare il basta Ciro basta il socket il big allora dobbiamo mettere cose entry cost 13 dai così durata mettiamo un no non ce li ho cost non ce li ho 13 dai ti prego come non hai 13 quanti ne hai? in 10 perché mi hanno chiesto di flipparli tutto ah no non ho 36 come vuoi 13 9 e 15 cioè mi fai male così cioè però per favore mi dico 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 flip house allora ho fatto il flip house stavolta mettiamo corte allora il comando è sempre punto esclamativo cosec e il vincitore ottiene 100 fra 80 dai 80 100 ma 80 metti 100 fra 80 non è che posso lanciarle così le monete ok dai 81 81 così mi fai male veramente tanto start posso? ah ho messo ho messo che potete non spammate vai vai fate punto esclamativo cosec non spammate punto esclamativo cosec perché ho messo le cose doppie quindi se lo mettete due volte lo pagate due volte però avete il doppio delle possibilità di vincere ah l'hai detto un po' troppo in ritardo li sta prendendo tutti allora dice uno cose 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 non vi risponde però li sta prendendo tutti tranquilli vedi quello quello cirrus che lo fa un po' di tempo dopo così per renderlo un po' più più losco andiamo un minuto e venti ah no ancora allora cosa potremmo fare in questo un minuto e venti oh hanno messo la la trio scappa veramente allora cosa dove la cosa in trio il torneo in trio l'hanno messo veramente copia cash dai fra posso no top 2 3 pun ma cos'è perché top 2 3 punti top 4 top 8 dettagli dell'evento top 8 top 8 top 8 top 3 top 4 top 3 top 1000 team vabbè normale come i due top 275 si vince poco però minchia partono già da 600 dollari possiamo provare io te e ma the fuck no non ci gioco con te ma fra ma per provare solo no dai no non voglio voglio qualcuno di chi è forte va bene sei forte bravo sei forte però ma fidati che ti trovi bene facciamo una volta una volta ti trovi io te ma the fuck facciamo tre game se le vinciamo tutte e tre e vediamo come vanno le cose magari ci ripensi su si ma arena in trio quando la mettono mai boh magari non lo so oh 10 secondi non so come si cambia il messaggio di ma no fra ne hai messo uno secondo me che lo puoi mettere soltanto una volta può essere può essere che ma di nuovo chi ha vinto di nuovo il show dai ci prego di nuovo che palle cioè lui l'ha messo uno l'ha messo uno io ne ho messi tre no ma non non c'è cos'è drawing no cazzo ne ho preso un altro ha vinto anche ciao due no 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 basta io mi suicido basta no mi suicido ti prego ti prego ne fai un'altra ti prego ti scongiuro io non giuro che la mia paghetta allora aspetta aspetta aspettate aspettate ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho chi sono quelli con più soldi allora sono ciao due viewer allora sean ne ha 289 e ciao due ne ha 147 ciro ne ha 10 allora adesso sean e ciao due voglio che vi sfidiate puntate entrambi 100 e chi vince se ne prende 200 ci state cioè per sean è un po' una bazzecola sean 100 ne ha 289 ciao due se ne punti 100 ne puoi rubare 100 a sean te lo dico dai ditemi se accettate ma per forza qualcuno vince sì sì dicono che sia una merda dai lo mostro perché in effetti sei un po' esatto aiuto tu poveri ma perché vedo la chat più tardi io di te perché io c'ho una buona connessione dai ciao due basta non riesco a tornare alla alla roba della chat ma mi ha cambiato account da solo basta cosa sta succedendo sperare schifo schifo porco fermi stanno succedendo cose brutte voglio solo tornare alla mia live lasciatemi guardare la mia live dov'è dov'è finita non riesco a tornare alla pagina della linko no no alla mia pagina non riesco a tornare no aspettate soiamo un po' accorto watch page no ma non voglio guardare da questa watch page voglio guardare dalla mia ah dashboard al vivo ok mi stavo preoccupando dai quindi citate ciao 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 ne buttate dentro 100 x e 100 ciao e che vince ne prende 200 cosa è rimbagno ciao ciao cosa ci vai a fare in bagno dai la pipì si fa nel bottiglietto ormai Allora ho detto Rifacciamo il giveaway Da 100 E ciao Butta dentro 100 Sean butta dentro 100 Chi vince se ne esce con 200 Capito? Ciao e Sean Avete capito? Avete capito? Avete capito? Ciao Ho la minchia storta Marco non ce l'hai più? Sì Dov'è? No quello Guarda Questa? Sì Sì Basta Sean e ciao due sono spariti No Dai Sean Devi buttare Dovete starci Eh lo so che lui ne è di più Però se ce ne metti Se ce ne metti di meno Lui non ci sta Però pensa Ciao guarda che Se poi vinci tu Gli rubi la corona del king Gliela rubi Perché lui ne perde 100 Tu ne fai 100 Lo superi di brutto Non so Mentre se Sean Vince Si fa altre 100 monete Easy easy Se ne va quasi a 400 E prende la tangenziale Proprio Eh lo so che hai paura Ciao però non vuoi mettere un po' di pepe? Vai vai E di 3 in 3 ci arrivi subito A 100 Ciro Non vuoi buttare un po' di pepe su questa Su questa live Ciao eh Non ti senti Non ti senti il prescelto Quello che Si porterà a casa la corona della serata Per le coins Facciamo una cosa Facciamo una cosa per renderlo un po' più voglioso Degli Che se lo fa No Il mio numero non troppo No allora Se lo fa Se lo fa Se lo fa Gli fa il provino per i void Che non era lui che rompeva il cazzo per fare il provino No Penso Per entrare Allora se lo fate Allora se lo fate Se Sean e Ciao 2 lo fanno Guarda anche Ciro Anche Ciro Vince tutti quelli da 4 E poi perde quelli da 14 Dai Sean Dai vedi Sean ci sta Oh Cortner Il mio numero di Cortner Cosa te ne sai del numero di Cortner Ecco il numero di Cortner Ecco ora fallo però Non chiamare di notte Perché se no mi rompe le palle Anzi 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 Facciamo così Facciamo così Ehm No aspetta Facciamo una cosa Allora Sean e Ciao 2 Allora Ciao 2 Visto che sei un po' Capito Un po' una pisciazza Diciamocelo E non vuoi sfidare Sean A una gara di fortuna Allora venite qua Fate un 1v1 In creativa Puntate 100 Cioè e poi chi vince Si becca 200 monete E ve ne tolgo 100 a testa Non ha senso Cosa non ha senso? Perché non Fra Fortnite non conta Magari Ciao 2 non gioca neanche a Fortnite No ciao 2 sì Anche Sean gioca a Fortnite Eh non c'è Sean Dai allora fatelo con in chat Dai ciao 2 Dai Ciao Per pomore Perché mi nascondesti i messaggi? No cos'è successo? Non lo so io L'ho fatto vedere io Sì lo so Lo so che ne è ancora 200 Ciao Però se tu vinci Lo sorpassi Hai capito? Lo sorpassi Sì va bene Esatto Entity Non funziona proprio così No 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 Il mod no Il mod no Il mod non si può dare Così Il mod è solo ai fedeli Io sono fedele? No però Eh dai Ciao 2 No 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 Per caso Di tenere dimenticato Ciro Eh dai ragazzi Fatelo Buttate 600 monete Non ve ne pentirete Cioè ciao 2 Pensa Pensa Butti 600 monete Teni vecchi 200 Superi Sean Lo spodesti Ti rubi la corona Di capo supremo Cioè non so Io lo farei Io lo farei No no Non ti regalo niente Però io lo farei Perché Ci sarebbe un bel sorpasso Ragazzi Ma che cazzo Me ne frega dei coins di cose Che forse Cioè manco fossero Una roba che bo Bravo Oh bravo Ciao Bravissimo Ragazzi Chi mi chiama Gli regalo 10 coins A chi mi chiama E parlerà in più Con cose che me Vi prego Voglio sentirmi partecipare Ok Viapro il giveaway Dovete fare Punto esclamativo Questo potrebbe essere Un bel punto esclamativo Suka Mella radio Suka Punto esclamativo Suka Costo 100 Un minuto E chi vince Ne prende 200 Vai Quando ci siete Ciao 2 Sean Punto esclamativo Suka Cosa Asp No Tanto non mi fa entrare Se non lo vede No no Veloce Allora Come il telefono Scrivere Se non vince Vince Sean No Ma intende Perché Mi deve E non mi può chiamare Un minuto e venti Siete pronti Siete carichi Come vi sentite Ora che avete speso Queste 100 monetine Ragazzi Basta Flippare roba Voglio vedere Un minuto Fermi un attimo Fermi un attimo Non flippate Non flippate 45 secondi Basta sfamare Il numero di telefono Ma mi rompe il palle Che nessuno mi chiami Mi sento Non famoso No Ciro 24 secondi Quanto volte hai perso di fila Un giorno poi magari No no Oggi che giorno è Magari tipo Sabato Voglio fare Le rotation E Oh No Incredibile Sorpasso Ciao due Ciao Sì Sì Aia Sean Ora rifanno un altro E vediamo chi vince Come rifanno un altro Fare un altro giveaway Tra Sean Ciao Vuole riprendersi Vuole riprendersi Eh no Era la botta No era la botta Di una volta Adesso Ciao due Ne ha 2,60 E Sean E Sean Ne ha 196 Che poi non è che Si è cambiato un po' Cioè Ora basta che Sean fa Ok Sean Ti sfido A Flipparne 100 Tu mi hai sfidato A flipparne Tutti quelli No 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 Eh ma gliene mancano Comunque 14 No Non gliene manca No scusa Sì sì Arriva a 296 No 246 Ne ha flippate 50 Ne ha flippate 100 Ah Aia Ciao Ciao A ciao Si è già stretto il culo Era lì Ho detto Minchia ho vinto Minchia ho vinto Invece Te fai una 2 No Mi piace un'altra singola Mi piacciono le singole Ultimamente E vabbè però Non l'ha superato Non l'ha superato Come no Gliene mancavano 14 Ne ha flippate 12 Cioè Guarda 2,58 E l'altro 2,60 Guarda Guarda Ciao 2 Guarda Che se chiudi Se chiudi la live Sean ti supera Gli basta stare fermo Che ti supera Flippate tutto No Il massimo che si flippare È 100 Anzi Ciao Ciao Dov'è Ora levo Levo il limite Del flip Perché qual è il limite Del flip 100 130 Quanti come so Che flippo qualcosa Quanto perdo Quindi Ha vinto L'ha superato Sono pari Andre Cosa Ah ha perso 2 monete Ciao 2 Sì Sono pari Che 36 coins Ne flippo 26 Anzi Prima le flippo 10 Anzi 16 Non mi ricordo dove sono Non mi ricordo dove ho lasciato i Dai Oh dove sono 15 Arrivano 11 Giusto Dai ti prego Dio cose Dove l'ho lasciato il flip Non lo trovo più Sì amore Sì amore E ora Sono tutto calda Sono tutta calda Uh Sean l'ha superato Sean l'ha superato Ragazzi Sto Ah ecco qua A 130 al massimo del flip Dopo lo tolgo Un attimo Bella sta mitraglietta Voglio Facciamo una cosa Chi azzecca Quante kill farà in questo game Vai ci sta Si prende 100 coins Vai ci sta Aspetta posso fare Posso fare il Che lo scrivo Ne le da automaticamente Vabbè però non C'è ora devo giocare Dai scrivete in chat Il numero ora Un numero solo Mi raccomando Ok adesso Adesso me lo sento 2 barra 3 show Potrei anche morire Oh da dove Non esagerate Io le dico le mie No Non ho mazzo C'è un 2 o 3 Prendo solo il primo numero Che avete scritto Ok allora ho 2 Aspetta No no Che cazzo Ciao Hai detto 15 No 12 Che hai detto 15 Ok 12 Perché Entite Va già Quindi 12 12 7 Sì Sì 12 Sì 12 Sì 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 Oh, ma è già dietro Sean ho già perso No, Sean Quanto aveva detto? Due Dai, Sean, due Ma in realtà ci stavo perché all'inizio stavo per morire E poi Cirrus torna qui anche che dico Quali sono i numeri alti? 12, poi cos'altro c'è? 12, 15, 7 Io 7 Devo fare 9, secondo me è 9 Dai, Sean ho un flip a 200 Anzi, poi voglio mettere ogni partita il coso win o non win Però vinci poco, vinci 10 No, vinci... dipende Se metti non win, vinci poco Se metti win, vinco No, no, ma devi mettere... No, no, effetto Ti metti 5 e 10 Perché comunque è quello Ti dico che è 50 e 50 Ah, gratis No, ma non lo mettevo gratis Lo mettevo a pagamento Ah, a pagamento? Eh Boh, non so Anche perché se guardo sul rateo Un attimo E quanta percentuale hai di vittoria? Ehm, 17, 16, 17 Ragazzi, ma devo andare a vedere la cosa Per capire Beh, il KGD4 Eh, il KGD4, ma 4 l'ho già fatto Sì, infatti Dai, Filippo a 200 Oh, mi lascia passare di qua Tu non hai ancora rispettato quello che ti ho chiesto Fatti il falofra Oh, cazzo Non l'ho sentito minimamente Sì, c'era Oddio Nooo Ho perso Stavi per vincere Eh, lo so per decidi vita Se non ti vesti fatto tirare il falofra Sono uno stupido Sean dice che se fai win Flippa tutto quello che ha Ok Voglio vedere una roba Non crede che funziona No, no Come è andato quello strunz Ma non ha distrutto un belino Infatti non c'è un bel mindestrugger Fa danni Solo endgame, sir Io pensavo che avevo 10.000 iscritti Ci ha volevo il mio numero solo perché pensavo Hai 46 coins Ne flippo 20 Anzi no Faccio scegliere Sean Sean, scegli tu Quanto devo flippare? Non ce l'ho io il suo numero fra Che lo conosco da quando è piccolo Non è vero Vangheri, ci credo Clippo 12 No, il mio numero non lo da nessuno Non ce l'ha neanche Fag Che è il mio duo Cazzo ho perso Non basti grazie Dai Sean Ne voglio un altro di numero Ti mostro i miei coins Il massimo è 24 Che posso flippare Comunque segui una regola Per quanto spendi Moltiplica per 10 Solo per i bambini che hanno Due problemi No, mia kill, mia kill Mia kill, mia kill Allora facciamo così Flippa Il numero delle mie kill Per 10 Io? No, no Sean Dimmi quanto flippare Quante chi Quanto ho detto che davo A chi indovinava le kill 100 Perché non avevano materiali Ste persone Vabbè Inutili Vabbè Vabbè no Dai ciao C'è il tu Quanto devo flippare Comunque Sean Ha battuto ciao Sì Ha appena arrivato 8 Quanto ho detto che Dai quanto build Ti prego non sprecare tutti sti materiali Dai 24 però Non si morirai che non devi ricordare E se vuoi che c'è controllo, non ascegliamo E' già un po' fra, secondo me ti conviene trattarti all'endgame, no, adesso Cos'è almeno non vince Ciao 2 No Come cazzo, dai questo è ritardato con 2 di vita, pure un italiano Che ha vinto, che aveva detto 12 Ciao 2 Quindi... Dai, potevo fare un sacco di kill, perché? Quello là aveva 2 di vita, questo tira lo schifo Perché aggiungono questi oggetti di merda? Perché aggiungono questi oggetti di merda? Sì, calma, ciao, ci metto un po' Quale termine ha? Te li ho dati, ciao Eh, Sean, però Ciao 2 ti ha superato Il king No, Sean Ecco, aspetta, aspetta, Sean Ora che hai perso Siccome, cioè, dopo che hai perso Vinci Quindi adesso hai perso 30, no? Però, secondo me Se ora ci spari un flip 100 Te li fai Infatti ora io devo flippare Ah, è vero, devo rimuovere il... Dov'è? Il limite Sì, non trovo più dove Flip 50 Io ho vinto Sean ha perso No La logica di con... Sean, Sean, vedi, non puoi perdere un'altra volta Fidati Flippane 100 Fidati Non puoi perdere un'altra volta Se ne flippi 100 Te ne da 50 Sean, se ne flippi 100 Te ne da 50 Per me, Sean un po' ci sta pensando Di si fare No, 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 è troppo Se flippi... No, se flippi 100 Te ne da altri 100 E però tu gliene dai 50 No Vabbè, dai Ah, se perdi Allora va bene Flippane 100 Se perdi Te ne do 50 75 no, sono troppo Ne perdi solo 25 Eh sì, infatti non ha senso Giuro, giuro Te ne do 50 50 Eh vabbè, dai Ciao 2 Poverino Ok, allora anche tu Ok, anche tu Però tu Dato che ne sei neri Ne vinci 25 Non ci credo Dai, dai Ne vinci Poverino Ciao 2 Fanno anche tu Ma tu ne vinci 25 Se perdi Aspettate Allora Sean Gli ne devo dare 50 Eh, fra Cosa No, come ha fatto Sean Ciao 2 Ne butta 100 Se perde Gli ne do 50 59 Sean adesso Hai perso Hai perso Hai perso Hai perso Un sacco di fila Ora non puoi perdere ancora Devi buttarle Devi buttarle Tutte Tutte 148 Devi buttarcele Buttali tutti Fra Però Se perdi Non ti do niente E poi vediamo Chi ha le palle o no Cosa è che Comunque Fai un giveaway piccolo Oh vedi Vedi Sean Te l'ho detto Fai un giveaway piccolo Fra Un giveaway piccolo Va bene Dai un coins Perdi un coins E te ne dà 15 Vabbè Così almeno Un po' più divertente Poi ci sono io Dai Se vinco Ragazzi Li do tutti Se vinco il giveaway Li flippo tutti Meno 10 Entity Dai poverino Puoi dare un coins Non ha un coins No Li ho sprecati tutti Li fa un 13 minuti E poi li Te l'ho dato No scusa Ma come ti chiami Sull'altro account Quello del cellulare Cosec 13 No Sì Forse sì Ma ti piace il numero 13 Sì Ah ecco perché Mi hai sogni 13 minuti 13 Questa Allora Start Dovete scrivere Punto esclamativo Poveri Dai dai Veloci Durerò solo un minuto Veloci 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 Punto esclamativo Poveri Ah se posso dirti una cosa Cosec Mentre la gente Meno se l'aspetta Fai queste cose Però tipo Di 10 secondi Qui tipo Dai un coin Cioè perdi un Cioè la gente paga un coin Se ne può finire Ok Così che è il più attivo Ah più che altro Questi purtroppo Cioè posso startarli Può startarli solo L'host Non posso farli startare A un moderatore Se non li puoi startare Tu va bab Tu hai l'account Di streamlabs Sì Se no non puoi farmi Anche le cose Tipo da mod Con l'account Questo no Il mod No Non può fare niente Mi sa Posso solo dire Tipo dare i soldi Alla gente Però l'ho disattivato Finito Vediamo chi ha vinto Oh 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 Non l'hai persa Così Quindi? Oh Non c'è scritto Sasuke Bella Sasuke Ma no Ma per come su un minuto Mi sa che si è buggato Aspettiamo un attimo Magari dal Se no non puoi fare le cose Che la gente che scrive La gente che scrive Una parola Vince a Hot Coins Non ho messo un minuto Dice che ha finito Però non va Ce l'ho Aspetta E' vero Io posso dire Cioè posso fare Nascondi il comando E la gente Deve indovinare Ma tu con Streamlabs Cosa fai? Vado a dire cosa faccio Cosa puoi fare Tramite Streamlabs? No Questo non è Streamlabs Questo è Fussbot E non mi Boh la roba di prima Non va Se no non mi potresti dare To account No Cattivo Non Non va Menti ti dice Forse hai messo 10 No no Ho messo uno Ho messo uno Cioè mi dice Tempo rimanente Zero secondi Però non 84 Scusate un attimo Lo rifaccio Con zero monete Riscrivete Punto esclamativo Poveri Aspetta Ho perso Allora devo pensare Tipo un indovinello E chi fa il punto Esclamativo Giusto Cioè Scrive il punto Esclamativo Quello che La risposta giusta Si Si becca Delle cose Dai Antti Tranquillo Magari ora Te ne fai 20 Ma non posso fare flip 12,5 No Ma se no Si può fare una cosa Tipo Tu scrivi Un indovinello E chi vince Chi mette la parola Ah questo Posso fare anche bet Cioè tipo Bet enter Tipo le aste Per vincere cosa? Un oggetto Che metto Un GTA Tutto intorno ai E cose che coins Comunque una figata Non l'ho mai visto fare Da degli Cosa che mi dai Che posso dare coins Aspetta Ma è vero Non ho fatto la storia Su Instagram Dove è che non serve un cazzo Però non ho fatto la storia Della live Dai Sean Esatto E' così la cosa Tanto ti fai 10 minuti Bo da 13 coins E puoi riconstruire un impero Dai Flippa tutto Esatto Sean Hai capito Bo tutto Esatto Esatto Tanto ti consolai Ecco esatto Hai perso E ora vinci Ecco Ecco 3 C coins Eh Sean però Hai perso la tua occasione Dove Quella lì Era quella vincente Oye Oye Sean ha perso 200 Signori Oddio Oddio Entity Ma tu Cosa sta facendo Entity Lui prende 13 coins Li flippa Li vince E poi li riflippa Tutti interi No Li perde tutti E poi Sean ha perso 200 coins Flippandoli Ma di nuovo Non è dato il vincitore No Boh si sarà baggato Ehm Vuoi fare un po' Di uno di uno No Voglio provare una cosa Ok No Genesis no O quella di Carol X O quella degli 8 Lady Skunk Se la conoscete Turn around Look at what I see What I see Poi Sean 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 Sei un coglione Cioè tu sei Sei quasi a livelli Di Entity No Sean Ha perso tutto Che bello Che ha flipato Ha flipato 100 Ha perso Ha flipato 2 Ha vinto Tipo 9 coins Non ce l'ho Non ce l'ho Quello di retur Basta Hai ragione Ma il fatto che tutti dovremmo Dovremmo pensare come il dio Sean Quindi ora io vedo quanti coins so E me ne frega un pazzo E li flippo tutti Ce l'hanno tutti No Li lascio 10 Come sempre Io ho vinto 98 coins Easy Mentalità di Sean Ah posso mettere anche lo shop Cioè fare una specie di shop con degli oggetti che si comprano con le monetine New item E cosa posso metterci? Ah potete comprarvi Allora Item name King delle monete Anzi no aspetta Cioè perché se io metto una cosa che si compra con 10 monete Mi fa metterlo stock 20 Item name Cosa potrei mettere come nome? Vuoi mettere tipo una cosa che shoppi Ti mette Credo ti metta l'icona Vicino al nome Non lo so Puoi trovare una lista di icone qui Ma Sean ha un altro numero? Sean no Nessuno Vuoi sentito quello di cosa Ah ecco qua tutta la Roma Ma quindi se io metto tipo Che ne so Il monopattino Lo prendo 810 Copio e incollo So te ne fai col monopattino? Non lo so aspetta aspetta Fra 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 Fai che tipo se ti compri la roba Aspetta no 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 Voglio capire cos'è Tipo farmi più velocemente i coins magari Qual è il codice? Non capisco Ah questo Questo qua Ho tutto Flippo la metà di quello che ho Ho 108 Flippo 54 Vai ti prego ti prego Monopattino Cazzo Cazzo Start arena Ah ho capito cos'è l'arena Cosa? Parte e tutti quelli in chat Con i comandi Tipo devono scrivere attacca Difenditi E uccidere gli altri E l'ultimo che rimane Si vince delle monete Ma lo sai perché? Lo sai che ho il numero di dandy? Ma quindi Ce l'ho anch'io Eeeh No ma non capisco Come si faccia sta roba Questa canzone non è Non è utilizzabile Avevo l'account di Karolix Di Instagram E c'era tipo Il numero di dandy No non riesco a farlo funzionare sta roba Oh cosa che mi metti? Che posso dare con Chi è che ha più monete? No non ti metto un caso Ma almeno posso io fare le cose Ciao 2 ce n'è ancora 384 Ciao 2 guarda che se arrivi a mille Ti prendi Se arrivi a mille monete Ti prendi il E come si dice? Ti prendi il titolo di riccone Non so Non so dove ti Non so sinceramente dove ti finisca questo titolo Ma da qualche parte Cosec Ma se fai che mi dai I coins Che posso dare coins Io faccio tipo gli indovinelli alla chat E do le cose io Almeno non devi fare le cose No ma li devi dare a tutti poi Con il comando di dare i coins Ah non posso Non posso darne una alla volta No darne una alla volta posso solo Dalle Dalla faccia Ma li puoi togliere a tutti Si Si ma Sean è un coglione Poi dopo voglio vedermi se c'è Voglio provare a fare un'arena Va bene Se Entity ti chiede se Puoi mandargli Del bot Dimmi come si chiama Che lo Ah poi si può mettere anche con le monete Puoi mettere le canzoni su Spotify Come si chiama il coso? La cosa che stai usando fra? Fusbot Arena Arena Basta Basta spammare Ma fra sto spammando il Lava che sono Entity Ma non ho capito come si faccia sta arena Cioè Enemy from Perché altro non ho capito come si starta l'arena Fusbot arena Ma tu li hai inviati post come Si ce li ho Post come Ma perché non metti anche la super chat? Boh Perché tanto non Mettila bro Vabbè Il primo Chi mi dona Secondo Vabbè Metti uno Per provare Uno Vabbè Però non so se La gente ce li ha Salva Allora Arena Dovete scrivere Punto esclamativo Join arena Provate a scriverlo voi Sinceramente non credo funzioni Non ho capito Se mi doni dieci euro Te ne do Anche più di mille Se vuoi dicono No raga Sta roba dell'arena Non funziona Non capisco Punto esclamativo Arena Forse Fra magari stasera Guardate un video Provate solo Punto esclamativo arena Eh Rindovinarlo ci sta Allora Vediamo un po' Perché posso fare Le risposte Diciamo Il poll Eccolo qua Durata Due minuti Titolo No no Poi di meno Poi di un minuto Vabbè Un attimo Il tempo di ripensarci Rispondi Allora Aspetta Tipo qualcosa di Fortnite Il danno Delle armi No no Quello solo c'era Una cosa più personale Magari Non lo so Qual è Il Tu lo sai Il mio record di kill Il tuo record di kill Non dillo Lo sai o no Dimmi Sì o no Non credo Dimmi se te lo Te lo scrivo Dimmi se Dove me l'hai scritto su Discord Su Discord No non è quello Allora Il mio record di kill Opzione 1 Opzione 1 16 Opzione 2 Aspetta Ne ho fatto i 17 La partita 19 24 31 23 23 28 Oh 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 Si nota che Quello Che il 28 Era poco Cioè l'hai detto Pensandoci Chi lo sa Guarda Guarda C'è scritto su Oppure 26 Durata 2 minuti Costo per votare 10 Ce l'avete tutti 10 Non credo Entity Quello che spende tutto Eh però costa 10 Chi vince Ne vince Eh entity Eh se Eh entity Non è che puoi spendere così Eh di qua e di là Eh Ti tieniti un po' di soldi Non so Incosciente Anzi Questa qua non la fai Non ti fai niente Anzi Facciamo che costa 13 E chi vince Vince 60 Ok È un po' poco Farà 60 Te lo dico Però dimmi se Quello che ti ho scritto Vince 60 Cioè Cosa Basta scrivermi Non te lo dico Devi fare il Il cos Anche io lo faccio Sì Ah Eh Primo start Sinceramente Non so come farete A rispondere Ah punto esclamativo Vote Spazio Uno Non scrivete il numero 24 Scrivete uno Se volete 19 Due Se volete 24 Ok Però dovrebbe essere Un incognito Secondo me No 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 Come ho scritto Cortner raga Come ho scritto Cortner Cambiate solo il numero Per Per quello Le kill che volete Bravissimo Bravissimo Ma ciao Ma ciao Ciao zecca Perché Secondo me O è 6 O 5 O 3 Perché sono le mie Tre scelte Ma scusa No Non funziona Così corto A parte che A parte che Hai pagato tutti Le hai pagate Tutti i 13 Eh Non credo Non è abbastanza Dico Cazzo E quindi ho vinto Qua per ora Non mi ha detto niente Cioè io non Diciamo il Il bot Non sa Qual è la risposta Giusta Quindi non so Cosa dica Alla fine Il bot Lo sa Cosa vuol dire Most votes for 26 Ah Ma no Questo No è sbagliato Questa è tipo Una cosa per dire Chi preferisce Cosa Comunque Era 23 E nessuno ha detto 4 Ma e fra Quindi io ho fatto Più kill di te Cioè il mio Riccardo di kill È piatto del tuo Eh sì Sì Eh sì Però mi puoi ridare Coins per favore No Dai fra Almeno Ne avevo 80 Non ne avevo 80 Se vuoi Sì fra Guarda su Guarda su Guarda su Ne avevo 80 Te lo dico subito Quanti ne avevo Ne avevo 80 precisi You watched the stream for two hours And gathered 80 coins Se me ne dai anche 70 mi va bene Boh la gente vuole i numeri della gente Quello di mia mamma Quanti ne ha fatto il suo record su Rissa squadri Distrutto Sionnet ha distrutto Grazie fra Vuoi che li flippi tutti fra? Dimmelo Dimmi un numero Anzi no Faccio io Google Sorteggia un numero da 1 a 88 Ecco il risultato migliore Ah ecco qua come si cambia 1 a 88 Che palma perché mi cerca tutti su internet Per se Dove sono le bette? Ah no questo devo fare Sono scemo io Ce l'hai un sito per sorteggiare la Ah ok aspettate aspettate Un'altra idea Allora Cioè ho capito come si fanno le domande Quelle che chi vince Ok per un secondo Ander Per caso sai Il sito per sorteggiare Per sorteggiare Boh Però non ho capito chi vince cosa Ah vince tutto il resto degli altri No non ho capito No non ho capito Vince il doppio 40 Metti lo shop Si ma fra lo shop è un bel po' Boh voleva vedere quello di oggi No non ho capito Ah che cazzo Va bene che serve No comunque nello shop Poi codicicatore lì Il tartino basso Ma lo sa che io non lo devo mettere Se lo metto mi dai i tot coins Devi scaricare il 64 Ah lo shop dei coins Allora dai Aiutami a scegliere un'altra domanda da fare Che voglio provare questo Che forse questo è quello giusto Ok Allora No ci penso Che giorno Cosa è che è entrato nei void Ma ragazzi io so gli anni No non ha senso No corte ne sa i miei anni Li sanno anche altri Eeeh E anche altro solo hanno inquinato Quindi 50-50 ti posso Però so che è nato a settembre Quindi Lo so dove vive Ce l'ho dai Che giorno del mese sono nato Che giorno sono nato Questo non me l'avevi detto No fai il coso Come si chiama il Discord Il mio server Cioè il mio account privato di Adesso in favore è un tipo Che si chiama Cortner Se non sbaglio Allora Post Bet enter Ok Bet open per Due minuti Perché non si fa cosa c'è Eeeh Possono puntare tutti quelli che vogliono Seleziono automaticamente la risposta corretta Appena i tempi Metti rewards 13 Che ridai a tutti i coins Che hanno perso Sta un po' zitto Non ho capito Quattro 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 Cinque Sei Ups Ciao Leo Io ci provo Non potete puntare tutti i soldi che volete Non so come si faccia però Start bet Ah come prima Spazio il numero Che secondo voi Quindi da 1 a 6 Secondo voi sono nato E spazio Il numero di monete che volete puntare Penso Cioè se indovinate Penso vi raddoppi le monete Però non ne sono sicuro Usatene poco Quanto si perde? No No Devi scrivere Dovete scrivere Punto esclamativo Bet Sul numero 1 10 monete Così Capito? 12 30 17 22 5 8 Bravo Sean Metti una monetina sul 5 Sean è molto timido Ha scommesso Solo una moneta Leo No Sinceramente mi sa di no Come ti chiami in gioco? Io spero questo Dai dai Dove hai finito? C'ho due Entity Ce l'hai una moneta Da puntare Una 20 secondi 20 secondi No Così non la prende Vediamo cosa succede Tu vuol dire shy Timido Io timido? E non ha vinto nessuno Fa 0 in 4 No si Diciamo una ha vinto E anche Entity Eh ma Non si può puntare Più di una volta Sean ha puntato Più di una volta E Entity Non so Non so se ha vinto Perché ha puntato Mentre Quando avevo già premuto Chiudi Quindi quando era? 22 Allora sai che ci stavo pensando Fra ma sei nato Il giorno Cosa sono nato? Il giorno prima di mia sorella Eh E' nato il 23 settembre Sul 22 Ok ragazzi Continuiamo Con il nostro Esco Vabbè Entity Però Ti do Povero Entity No ne hai 18 ora Te ne do Te ne regalo 10 Perché hai indovinato Ragazzi questa volta cambiamo Anche se è tardi In che safe Morirà Quindi questa qua è un po' più difficile Quindi mettiamo in palio 150 Aspettate possiamo farlo Bet In che safe Morirò Però ci sono soltanto 6 safe Cioè non Eh 6 safe ci sono? No non ci sono 6 safe Vabbè Se arrivo alla sesta Vuol dire che ormai ho vinto Cioè Talmente piccola la sesta Vabbè Meno più non sei in arena Sì sì Quindi vi do 4 minuti Per votare No no Però no no Non va bene Cosa? Perché dobbiamo farlo gratis Perde caso Cioè queste qua Per le partite Sono scommesse Così che si fa Vabbè Ma in questo Ognuno può scommettere Quello che vuole E vince quello che vuole No Non vince quello che vuole Vince doppio Eh Non ha senso Sì Indovinato Vinci Sì ma È difficile Non istiga la gente Però Start Dovete scrivere come prima Punto esclamativo Bet Il numero della safe Qui secondo voi Morirò E Spazio Il Ecco qua Eh no aspetta Non funzionerà Le monete Che volete puntare L'ho scritto Punto esclamativo 5 All in An ospe Eh Sean però devi scrivere Punto esclamativo Bet 2 Spazio Le monete che vuoi puntare Bet 5 E ce ne mettiamo 10 Bravissimo Sean Dovrebbe averlo preso Perché dico Vabbè Cioè quanto vuoi che io punti Cioè Cosa Che botta di merda Molto timido Votta mamma 69 I coins Dopo cambia Cambia il I no Fai solo Di Della leve Fai solo Più Commesse Legali Ne flippo 62 Così mi viene Il mio numero preferito Ok Ora ne flippo 7 Ho perso Vieni Facciamo che ne vince 150 Che ne vediamo Ok Perché la safe è difficile La safe è facile È più difficile Le heal Mille gemba Quelle cuffie rotte Cazzo Dio Dai Lasciami stare Ragazzi Questa qua non vale Come fa Se muore Ok Ma te l'hanno stillata Mi hanno snipato Questa non vale Ma questo Ma ha snipato Ma che Ce la fa una vita Madonna E le cuffie Che mi si staccano Dai facciamo Dalla prossima Che questa Si è Vediamo un po' La gente Che è Fk Scusa Allora Chi siamo Io Entity Dobbiamo capire Quel ciru Ehm ecco comunque dopo fra dai reward tradici perché prima abbiamo sprecato tre ma nessuno ancora ha provato questo comando che comando non fa altro che perdere no 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 non l'ho attivato quando è scritto cosa prima che cambia sentito noi v5 spectro non ho paura di essere beccati esatto esatto però qua è il 50 e 50 e non sono non dice dai questo stronza incastrato io cosa è colpa mia mi hai fatto diventare povero cosa vuoi che ti leghi i messaggi ok allora se vogliono le voto per far spettare tutto io voto di sé cosa che fai così che la prossima volta ciao ciao 2 non spende tutti i suoi coins lo banni ciao 2 spende tutti i coins ciao 2 se vinci ah se ciao 2 spende tutti i coins lo banno esatto no povero ciao 2 ciao 2 se vinci prendi 600 beh beh no cosa ne vince 800 praticamente ne vince 700 794 anche 794 sono tanti arriva quasi ai mille del titolo di riccone come la penso io flippane 300 flippane 300 che se vinci ti fai 600 e arrivi a 697 ok 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 Ok, ne flippo 5 Se ti piace la figa, flippa Allora mi sa che non deve flippare Dai Adesso ne faccio altri 5 Ma raga, ma che palle Prendo altri 5, intanto Non faccio Anzi, quanti cominciò? Faccio un roll in Che no, no C'è 15, faccio flip 6 Ok Ho perso di nuovo Ciccio gamer gay Questa qua è la mia Un risultato disperato Ho perso di nuovo Ma non ci credo Non ci credo 2, 3, 4, 5 Cosa ho perso 7 volte di fila Aspetta Ok, ne ho 7 volte di fila Dai raga, ve lo giuro Se mi date il loro Dandi Tal Li flippo tutti Ho anche il numero di una Dei faka Un'altra Un po' non sta portata Che è un po' strano A dire Si infatti Ciao, te ne fai? Dicando una cosa ne hai fatto del mio numero Ce la prendono con me Io mi metto nei guai E te la Cosa? Che scusai? Dai sentiamo la tua scusa Un tipo quello E Un po' di Io seguo il live di Cosmos Non ti ho mai visto mod Non ho sbagliato Sono un coglione Che safe Prima Cioè si è chiusa la prima Quindi è teoricamente il secondo No però è la prima Prima La prima teoricamente è prima che parta tutto Ti dice cosa ho flippato vado a vedere in alto Scusa un attimo I voci del stream hai perso, hai perso, hai perso It's very bad Ok Qua Io ho votato la quinta Seconda Non lo so I provini Forse è tra un po' Seconda Non me ne occupo più io Ha vinto Sean Mi devi dare 4 coins No vediamo Dov'è bet Bet La risposta giusta era 1 Quindi sono morta la prima Quella era la prima Sì Allora non ha vinto nessuno Se era la seconda Ha vinto Sean Nessuno ha detto la prima No Ah mi tocca che era la seconda Così ha vinto Sean Solo 4 coins Scusa Ora ne ha 13 Bravo Sean Ora dico così La risposta era 2 Sean ha vinto Sean fai coins 25 Quanti ne ha 20 12 Quanti ne ha i puntati? 6? 2 2? Allora è per 6 Perché ci sono 6 opzioni Allora fa per 6 Non fa per 2 Mi chiamano Allora è OP Per 6 è tantissimo Cioè se io vincevo Fra mi piacevo tipo Ho 128 Ho 60 Ho 100 Ma che dico? Io ho puntato 10 Fra Vincevo 60 Ho 60 Fra Farli senza Fai con Perché è facile Tanto qua il cellulare Me lo segno io Scrivi quante Ragazzi Non c'è una cosa Ora Vado a fare uno Vado a fare uno con Kodak Chi azzecca? Quante kill farà Kodak Prima di stuparsi? Ma cosa vuol dire? No non lo so Perché le kill sono un po' Boh Sì è fino allo shop Fai che chi si aggettano Quanto vince Spaghettata ti è invitata Andre che si è domicizzata Spaghettata Si è bloccata la live Spaghettata è quello che ho ucciso prima Spaghettata Cosa da dire Spaghettata Ciao Spaghettata Mi ha ucciso prima Guarda Ah Ah sì ho visto A Borgo Bislacco Sì Eh succede Come sto voi Ti ho detto Magari in live Così Eh lo sono Mi hai cercato? Sì sì Stavo guardando adesso La live Eh Bravo Che vuoi fare? Giochi o? No Torno a fare un po' di singoli Eh Sean Quando cambia Bella Bella Quando cambia Quando cambia Sean inizia Grazie Sean Anche tu sei il mio bot preferito Corta Mi casa inizia a fare le live Chi cambia casa? Io No perché mi hai chiesto Quando faccio le live Boh vabbè Eh Ma 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 se startassi una live E qui Cosa fare singolo O cosa fare? Vuoi fare Creativa Andiamo Però Di verità Non è che Non si stia impazzendo Dalla voglia Boh Facciamo delle cose a caso Tipo Sempre legate ai coins Tipo che Io metto delle casse Chi indovina Che arma leggendaria C'è in quella cassa? No No Boh Così intanto No Non so Quello che vuoi Ci possono fare tantissime cose Su Competitive 1v1 Io vorrei fare Io vorrei fare Gli 1v1 Con i coins Che si scommettono Tipo quando la gente Scommette i soldi veri Però con i coins Esatto Però C'è Tra me e te No E vinci tu Tra della gente In chat A casa Eh ma La gente in chat Show Non gioca C'è la gente Non gioca Questo Se no Andre Non so Basta Che io Spengo Mi stupire Più corto Nel rilevo Di cose Che Cosa? Dai Entiti Come ti chiami? Sì Il nodo La gente Le scommette Subite Entiti Oh Vieni Entiti Come ti chiami? Mmm Siamo Black Demon Black Demon Tu Invitami Sarò Che magari Faccio anch'io Con uno Oh Ce lo fai Solo tu? Ah ok Anche perché Tu spacchi tutti No Entiti è forte Insomma è Bravo Sean Fai bene Servono a quello Eh lo so Entiti Però io ti ho Tra gli amici E non ci sei Non sei online Black Demon Oppure Enemy Entiti Black Demon Offline Entiti Offline Ok Si ammazza di Fra Faccio In Infatti Faccio Anzi No 300 Il flex Le mie balenciaghe Le easy Grazie Sean Così io li pulisco E ci compro le sigarette Come No Ah no aspetta Siamo in live Ci compro I succhetti I gattini Ci compro I succhi Per la merenda Sì infatti Quello che mi faceva ridere Easy Le easy La mia sedia Che scricchi Ora non so Nei che faccio Io non posso scommettere Su quanto Su chi vince No Perché no No Chi vince tra voi due Si becca 50 100 No di più Fra Scusa 100 1v1 Non è stare al picchio A fare E giocare Sul campo Fra Chi vince Se ne becca 100 E E gli altri Possono scommettere Su di voi Però Come Ah beh Così 500 si starebbe Via questo Via questo Via questo Via questo Opzione 1 Cortner Opzione 2 Entity Guarda che no Il 50 E il 50 Di posto Chi vincerà Ciao Ciao Ammazzati Allora Senti Fai Allora Si paga poco Fra No Non ho messo Quello che si paga Ho messo Quello che ti raddoppia Chi vince Ma Fra è troppo easy Perché È un blocco Perché Fra È il 50 E 50 È Se 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 Ciao Ho Ho Un Fa All in È Il 50 50 Di possibilità È Anche quando fai flip Hai il 50 50 Lo so Però è un'altra cosa No è la stessa cosa Invitenti Dai Allora Bet opened For Three minutes Start Ok Scommettete Uno per Cortner Due per Entity E Metti arena Cioè No Voi due Non scommettete Io non scommetto No Voi prendete Però non fare 100 Fra Fai 250 È Alla Madonna 250 Sono pochi Però No 100 Vanno benissimo 100 Però allora ragazzi Se Se metti 100 Magari mi faccio battere Così sale un po' Entity Però non li scommettere Tu Ma come Sean Non puoi puntare Solo 10 Su chi vuoi? Su Cortner Hai puntato Su Cortner Ragazzi Mi sento Onorato Onoreggiato Nella tua Isola Metti Quella cosa Che chi entra Dopo Spetta Ti vengo a prendere A casa Per 10 Monete Sean Hai fatto Il tirchio Ciao Ciao Due Ha puntato Su Entity Bene Avete startato Sì Arriva Che vuoi fare Entro Nonno Tato Combat Tutte e due Quale Sì l'uno Eh Quale sia l'uno Che Sì E lì sto dando Tutte e due Però sto laggando No Non si rifà No E allora aspetta un secondo Per forza Ma io sono scelto Allora rifate Io voglio capire chi è Il casa mia A quest'ora Che sto Andando internet Ma sono io che Mv Sto 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 Come Mi pensavo Eri Te Il secondo Il secondo Eri Ma Tanto Vince Lui Cortner Scarsa No Vero Ciao Due Il primo Che arriva A tre Quindi Diciamo Alla Meglio Di Cinque Mi dispiace Che tu abbia puntato Su Cortner Sean Minchia Però non mi va Che cosa che mi spai Perché così Sono tutte le mie Tecnici Ma in realtà Ce l'ho lasciato aperta Quindi non Ok ho smesso di Leggare 400 pulite Pulite Eh te ne dà il doppio Di quelle che hai puntato Quindi se ne puntate 10 Te ne dà 20 No 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 Ah no Vero il doppio Eh si si ci sono due opzioni Il doppio Ma allora ci sta Come cosa Ma puoi mettervi Eh Puoi mettervi Di 6 No 6 al massimo Vabbè 6 sono tante Dai Dai Fri Attenzione Sono al limite del mondo 1-0 per Cortner GG Ma what the fuck Ho due armi diverse Adesso In che senso Si è vero Dopo che muore una volta Ti dà quell'altro Fuciletto Non so perché Ma fra la tenle Tutte e due Le stiamo dando No 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 Lo scar Al posto dello scar Gli ha dato il fucile Di John Wick Come Anche prima Mi ha l'ha fatto Eh tanto Lo scar lo usate Poi Ah più che altro Perché mi sembrava Di averlo tolto Eh Cosa vivi L'ho cambiato io Prima lo spon Stiamo giocando L'ho cambiato Per me Sto avendo Nel combat Sto stare Wow Incredibile Sei un hacker Sei un hacker No infatti Però mi sono dimenticato Di cancellare Che se mi sembra Che palla Che misch Devo fare No No Caccia Caccia ho smissato Agli entiti Occhio 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 Neanche provo a flickare Gio No 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 C'è un hacker Match point Ragazzi non c'è il gioco Dai entiti Guarda che si vince Cento qua Mica si vincono Pannocchie Uccidimi Non mi andrò da mente Che ti posso sparare Abbiamo una resa Una resa di un punto Cosa stai facendo? Eh voglio vedere un po' Ah vuoi mettere un po' di pepe A questa sfida Esatto Sì perché Che è il campione No No Non rispetto un po' Entiti Esatto Bravo E non guarda quello stupido Di Cardinal Così dopo me lo guardo Anche in live Secondo te Sono troppo macchinoso Sono abbastanza Secondo te Sei Faze Sway Grazie Amore No Potevi sparargli un bel colpo Eh lo so Non ho Comunque Penso a fare Un edit Perché Nei sono proprio un botto A fare Un colpo Mi puoi dare Con Senza il combat Cioè con il combat In testa Niente quanto In testa? Sì Dai No 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 Sì ma in te non ci credo C'avevo il problema da ricaricare E' entrambi poca vita Grande corte sei il migliore Chi è questo? Chi è già quello che ha votato per me? Sean No Oh 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 Devi romperli se no non passa Secca secca chi vince vince Oh blue shit Quanto aiuto aveva? 10 Oh davvero è morto Che culo Oh Ehi, DT. Entity, Entity. 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 Uff. No! WTF? 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 No! Eri perut. Allora, vediamo un po'. Che aveva puntato su? Sean. Sean ha 41 monete. Se io dico ha vinto Kortner. A Sean hanno dato 20, giusto. Allora, Kortner, tu ora avresti vinto 100 monete. Però, io ti propongo un'altra sfida, ancora più sfidosa. Fai 1v1 con me e se vinci, te ne do 200. Alla prima partita. Facciamo lascia il raddoppio, se vinci la prima partita, te ne do 200. Se poi, dopo che hai vinto la prima... Se perde 0, 0, no. Se perde 0. Lo sai che sei un po' come Crazy Mad? Cosa? Non so chi sia. Ehm... Vabbè. Poi diceva, però, se fai quello ti do un account con tanti... No, io invece ti do le monettine del mio canale YouTube. Esatto. Che più o meno valgono tipo un miliardo di monete e valgono un centesimo. Convertiti in euro. Allora, Kortner, cosa fai? Accetti o te la pisci? Diventano 200 e devi battermi solo una volta e diventano 200. Se poi mi batti di nuovo, diventano 400. Eh no, devi battermi alla prima, subito. Ehm... Ma sai cosa ti dico? Mh... Ma facciamolo, intanto che c'ho da... Devi restartare il game. Merda. Cioè, cosa me ne faccio di 100 points di merda? Nel tempo che ho fatto gli 1-1, me ne son presi altri 20. Mo li sbatto tutti flippandoli, me ne faccio altri 100. Boh, è un ricco e sfondato, c'è... Ma fai come... Prendo... Il problema è che potrebbe svontarmi. Ok, adesso devo dirti... Prima di iniziare devo chiederti se ti senti... mentalmente sano, se sei sicuro e se ti senti pronto a... intraprendere questo viaggio che ti costerà 100 monete. O... Te ne farà vincere... 200. Eh... Sono anche le 1 di notte, prima l'ho clappato cose... Quindi diciamo che... Andiamo su a giocare di notte. Un bel casino. Sai come me la gioco io? Non te la giochi. Ma è vero che tu c'hai il cazzo di bug, di merda... Di merda... Di merda... Giusto. Non è vero, non è vero. Non ho fatto apposta, non l'ho fatto apposta. No, 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 è giusto. Ahia. Ora ti propongo un'altra sfida. Ok. Aspetta che la penso perché in realtà non ce l'ho ancora. Allora... Faccio... Un altro 1-1 con te. Se vinco, riprendo quei 100. Ok. Però se perdono cosa succede? Nooo... No, basta. Il propone del nonno... Non mi piace. Signore, ti propongo un'altra sfida. Allora, se vinco... No, facciamo così. Allora, ora ricomincio il circolo, ok? Sei a 100. Se vinci fai a 200. Se perdi torni a 0. Però quando perdi, che sei già a 0, finito. Ok? No. Voglio 1-100. E ora faccio 1-1 così giù. Ok. Te ne esci con i tuoi 100, quindi? Sì. Capisco, capisco. Adesso ti lascio vincere. Saresti stato molto gentile. Ma lo so che non è da cose che... Fare cose del genere. Cosa ci fai qui qua dietro? Cazzo. Cazzo, è corrotto benissimo. Anche a te si bugga quando fai double damage? No. E vai lento. No. Non è un problema di... Solo di qualcuno. Perché ha un altro amico che succede. Che non è da pad. Magari con il Joyce. Eh? Non è da pad. Non è da pad, no. Ma mamma. No, non lo sa. Non vedo niente. Non ti comenta stì. Bene. qualcuno di voi in chat ha visto stringerti grazie amore facciamo così facciamo facciamo un 2v1 io contro voi due se vincete vi do ok se perdete vi a 0 vabbè tanto ne ho e 26 se perdete vi a 0 però mi grazie spendeli tutti dopo corte spendeli tutti dopo si infatti intanto no no possiamo partire anche tutti dalla stessa porta ok aspetta un momento lui stai al centro io sto a sinistra e tu sei alla tua sinistra corte rompi un po' così ci vediamo e non ci guardi no che palla non volevo vincere ho flippato tutti i coins che ho e no cosa hai flippato 204 e mi li eri addoppiati si arriva a 2h non è alla prima oh cazzo hai tappo se stanno devi tirati cazzo mortici vabbè me lo shoot dai mi sa che sarà molto facile fare boots shhh non dirmi ora inizia modalità soldati certo aspetta non sei lotto yes vai fai una scala? bravo no non mi ha buildato mi sono bloccato nella tua ha evitato 80 anch'io come bianco no si è rifatto tu ha ha ah si no 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 io l'ho visto da l'ho visto da l'ho visto da comunque ho vinto dai 200 con questa testa fra il nostro impero sta nascendo cornet cornet prova a fare uno con me a entity ne ho dato 200 tenendo solo 100 perchè prima hai fatto perchè prima hai fatto il furbet e hai provato a flippale no dai no dai fra un attimo allora entiti facciamo una cosa ascoltami se vinco se vinco mi dai 50 perchè non giochi più a fortner a fortnut fra frag e se mi batti io te ne do 100 dei miei ma io mi sa che ne ho sempre 5 monete io te ne do 50 si io non sto guardando la mia live infatti io ne ho 5 oh cosa state facendo allora se vinco io mi da 50 coins se vince lui me ne da io gliene do 100 ok però io devo tornare un attimo al hub perchè voglio vedere allora un attimo un attimo voglio rifare come t'ho tolto un botto eh lo so infatti no no dai continuate continuate beh contando che prima ti chiedi già posso anche fare ah no no farà però non ci credo sbagliato sbagliato dai ti prego allora te ne fatti ok fari 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 ci arriva 3 per questo dai ah ok va bene va bene ah ok va bene va bene 50 grandissimo ti ha truffato in realtà è come quando nei film al bar fanno braccio di ferro no? e c'è quello che fa finta di essere scarso poi scommettono un sacco di soldi e vinci perchè prima ero freddo esatto però mi clappi sto combattendo di merda però non mi edita what the fuck ma me prima non saltava si si te scusi però mi sono v1 no te la stavo facendo v1 no 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 ahia se lo trovo con il pompa in mano what perchè sto con il torno ho messato? non ci credo eh lo so fag però cosa ti devo dire no erry perchè tu arrivi quando perdo? no 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 ha vinto quanto aiutevi? ahia gliene devi dare 100 allora gliene devo dare 100 cortner meno 100 no un attimo un attimo un attimo entity più 100 no 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 fra no no cosa? no 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 allora allora se ti batto ahah tu me ne dai sempre 50 se mi batti ti do l'olino di quello che ho olino quanto hai? ne hai 230 alla prima anzi non me ne togli 200 cos'è? tu cosa dici? ma al massimo al che vado ne perdi 50 se ne puoi vincere 200 questa qua è la mia ultima offerta eh ne hai niente controproposte quindi 50 lui e 200 tu si ok ok un attimo un attimo un attimo entity è passato dalle stelle alle stelle proprio era lì che flippava da uno e ora cazzo cazzo credevo che faccia una cosa allora com'è? ho detto che ho imparato dagli scorsi fight che che righe fa male nooo una zero nooo una zero no no una zero niente eh era la enti sei d'accordo mi stavo facesse almeno a due dai meno a due fatelo almeno un altro però mi dai 75 se vuoi fare io sempre 200 no io no va bene arriverai a 400 no rimarrebbe comunque primo c'ho due ma no non arrivi a 400 prima ne hai dati 100 a lui nei 230 ora no no non è andato niente a lui perché abbiamo annullato no no non l'avevo già annullato l'avete aggiunto no no questo è un altro abbiamo annullato l'abbiamo anche detto dai che palle che sei bro no no piccolato da cortner no no però però dai ti prego quella di prima avevamo detto che non valeva non so l'avevamo l'avevamo detto entity l'avevamo detto che non valeva vabbè dagli 75 si ma quella di prima quella di chi vinceva vinceva c'è annullavamo tutto allora intanto quindi se vuoi a lui aggiungi lì 75 a lui a lui aggiungi lì sì 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 però non toglierli dai facciamo una cosa però non toglierli sembra tipo un gattino in difesa però a me non toglierli esatto per favore che sto cercando di diventare il king guarda che noi ci stiamo divertendo con i pochi eh ma quelli erano i vecchi tempi lì erano tutti in hub adesso si sono evoluti tutti prendono il pompa che spamma pum 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 soprattutto qua di uno di noi enemy entity enemy stavo pensando al team cio cosa perché sto ancora facendo ora oh per divertirci ma dai ma sto troppo scherzo questo pompa fai camminato coming out? sei gay? ricco è ria via che voglio entrare si avvicinò è bugato mamma mia è proprio bugato lol lol ehm mh 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 . mh 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 Cosa è che per caso sai come si fanno le cose da per terra, sai come si fanno a togliere le cose? Così, le prendi in mano e poi dopo appena avveno Ok, raccogliele Ok, allora, io ne ho 102, poi ho vinto 200 Dai boss, ce ne hai 300, stai zitto, basta, hai rotto il caso C'è che sei moderatore e te ne prendi pure doppie Ok, non rompere Sai perché hai sparito tutto, io non ho le armi in mano Cortenar, che cazzo hai fatto? Io non ho le armi Amattami Senti, è armi Ho perso 150, fra Ok, neanche io ce le ho adesso Vabbè, uso il pompo e basta Ma lui non le ha droppate? Sì Guarda, butta le armi Perché dove butta le armi? Perché non sono spawnate Che so se entra? Tanto voi ce le avete No, lui non ce le ha Lui c'è solo il pompa Vabbè, faccio il pompa No, no, prendi, lo prendi Facciamo 2v1? O 1v1v1? Facciamo che stai zitta Ok, 2v No, 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 un 2v1 1v1v1 Ah, però sento Il poverino, lui ha solo il pompa Se la clap col pompa Non credo, ho tirato una botta Non ci credo, credo di avere il A parte che ho lo slot Sbagliato Ma quindi la roba di arena Dell'arena, lì, fa Cosa? Sì, non c'era un comando per l'arena Ah, boh Ma questo è il bordo Fai la cosa in cui compri la zella E non ci riesco Dopo, poi guardo I nomi dei comandi giusti Io non scendo Vabbè Con sta vita non c'è Cosa? Ah, no, è quella No, sono volato giù No, no, no Perché non mi build Dove vuoi? Perché ci avete entrambi l'anonimo Facciamo fai E libero Dai, non ti entrate un colpo Io stavo laggando Tipo, colpo mi arrivò No, non mi salta Quanto è un po' Con sto polpo Tu Ho tanto Devo chiedermi così Non è Troveva 20 Chuna Mi faccia Ho tanto Mora A Stavo Mi Lontar Mit آ Mi Ha Ma Ha Ho Mi 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 è finito la carta ragazzi ho sentito in stranger thing che cantano alla fine poi ora arrivo turn around look at what you see 40 next no 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 devi rubare la vita Quante idee ho ancora Ah pochissima Ah pochissima Però torno un po' a fare il Il coglione Aggiungi qualcosa tra Aggiungi qualcosa per Non per forza Scommettere qualcosa Per cosa allora E tipo Come se potresti Costruire il tuo impero Tipo Non so una roba strana E poi quando chiudo la live guardo se c'è qualcosa di nuovo Io c'ho compagnia Aia Non ci credo Credo così Vabbè Ma l'hai untappato? No due colpi Due colpi mi ha tirato Ma perché mi sta laggando? No Oh ma perché non ti prendo? Perché non vi ho tre passi Quanti kill avete? Un milione No devo ricaricare Aiuto Vabbè No faccio troppo schifo questo pompa Vabbè Dovevo capire bene C'è da divare il pompa in mano No No che talle Andre No 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 vieni qua Andre lo sai che non so il tuo cognome No ho 24 Dopo fai l'indovinella quale il tuo cognome No Che fa lei sono buona Ma c'è qua ancora qualcun altro Kill la mia Non lo so Vabbè Adesso adesso facciamo ancora un po' Due di fight E poi vado a leggere qualcosa Due di fight ho detto Vabbè vado a leggere qualcosa Un tipo nuovo ha scritto Sì sì Conserisci tu visita Guarda Guarda cosa ha scritto Sì sì Lo so La sua giurisposta Perché siamo in 5 E Nessuno scrive Non scrive nessuno Shop? Ah è vero È l'ora dello shop Che veri sono? Beh Andiamo ad accontentare Sean Con il nostro shop Esatto E qua è soltanto Secondo me è soltanto Perché è vero E allora Mi ha invitato Buon edo Dopo andiamo a fare rotation No però Ok Sì bella rotation È l'unica dove so giocare Già ha iniziato Allora ho 450 V-Bucks Questa è nostra roba Non credere che stai facendo la rotation Io ne ho Ino 200 Ino 80 Zero 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 Wow No è finito No è uscita la skin di Sprozzberg Qual è? Oddio devo chiedere la tipa No corte me l'hai già sciopato Questo è lo shop Sean Sei contento Lei la reaction allo shop Fa schifo come corte Ma sono in lobby Non sono più in Prima erano in creativa Secule Ma sono in quattro Intanto senti No no ma infatti Allora ragazzi Ora Cosa facciamo Facciamo gli indovinelli? Dato che Non lo so Voglio fare un singolo Vai Aiuto Aspetta Mi sei staccato le cuffie Mi sei staccato le cuffie No Qui ci sono Aspetta Corta Non te lo butto fuori Metti quella roba Lì No Mi fai Aspetta Dov'è? Vai in squadre No no Metti vai in squadre E poi fai Sit out Non so come si dica In italiano Cosa c'è? Allora in basso a destra C'è formazione squadra A parte che Ah vieni anche tu Cortner Così così Sit out Esatto Quello E me ti salta Giusto? Dove sei? Ma intanto sono qua Cioè Ma almeno potete parlare Tra di voi Sennò poi mi dà fastidio Se uno mi chiede una cosa Poi rispondo E all'altro Pensa che stai Sennò No vieni Così potete anche Parare tra di voi Buongiorno Buongiorno Posso ballare Ciao Notte show Comunque mi dovete spiegare Questa cosa Perché voi incontrate I nabbi E li incontri Pro player Che mi battono pure Con una benda Sugli Notte show Ma perché io li spacco tutti Se sei ancora Dimmi No non lo so Di verità anch'io Mi sono sempre chiesto La stessa cosa Ora provo Ultimamente Provo dei nabbi Una volta entro Quell'altro accanto Ti faccio vedere Ma quindi hai messo A posto il roll No Non so proprio Come si usi Flippo 50 Li flippo tutti Vai Tanto Come vai Ho vinto Ho vinto 100 coin 250 coins Trova sta partita Finta Ma noi ci aspettiamo No 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 stiamo in love No Vabbè guardiamola Senta Però Vediamo quanti coin Ho la bellezza Di Vale Mette 144 277 Punta Allora Sì No Flippo Allora facciamo Flippo No Hai perso Ma hai mai vinto un flip No Sì Quali da uno Ma com'è che adesso è più questi dimenti Eh perché non li ho spesi Ma in teoria non potrebbe Cosa? Quante ne flippo? Ne ha presi 200 Quando ne ho dati 200 testa E io ne ho vinti altri 75 Eppure ne avevo 230 Eh poi io ne ho dati 100 Quando ti ho battuto E poi io ne ho tolto i 75 Quando l'hai battuto Sì ma a me hai tolto qualcosa? No No Però perché ne ho presi 2? Cioè in teoria Io ne ho dovrei avere 200 Non ho presi Ma sta un po' zitto Forza Quanti ne flippo? Boh Tu rispone è 50 91 Uuuuuh Pfff Starei perso No starei perso Hai perso Hai perso Hai perso Oh Ho messo un po' a caricare Ho la scritta Hai perso Ci hai messo un po' a caricare Hai perso Hai perso Hai perso la virginità mentale Guarda dove si faccia Chi è più che mi hanno testo Tipo 7 dischi Ok 200 Sì ragazzi devo fare la varigia Hai perso Ah no Io vorrei flippare una Per perdere non puoi per Per perdere non puoi per Per perdere non puoi Credevo non le vieni Che fido Una te la fa vincere Una te la fa perdere Dai ne flippo 25 Dai Sì Che culo ma guarda Adesso lo faccio io Pidere 25 Guarda Dai Ma non ha senso Lui c'è da 70 Però ma adesso cambia Account Non ha senso Esatto E poi avviassimo una solo Tutti insieme E ci incontriamo E' più facile farlo in l'arena Ma io troppo Sì in l'arena Facilissi Un perso Tutto Ma tiene ai quattro Ah 260 Ho vinto Padere Flip 20 Padere Flip Adesso 162 punti Adesso mi limpo 164 Oh scherzo Quel pompa secondo me Quello che stai usando fa schifo Lo so Non ne avevo altro Ho 50 Non ti penso Oh ho vinto La prima volta che l'ho vinto 240c Ne clip Ne clip 45 Prego Pazzo Ho 212 cose Allora Ne clip 12 cose Allora cosa? Che siamo offline Non mi sto fuori Io ne clipo Ne clipo Tutti quelli che ho io Però tu non mi dai 80c Ma non ha 6 Ne hai 200 Ne hai 200? Sì Guarda che bot Che Sì Sto ma un buggy bomb Oh oh ah naso adesso ne flipo 24 basta ragazzi intanto ci ho messo veramente poco e cosa dovresti fare? una specie di torneo ho vinto 400 coins no 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 lo faccio io qua e vado in banca rotta vado a meno 200 guarda hit 100 hai caccia no dai ah no vado a questo di fare uno scosso con il percorso dopo di passare più grave esatto per una fight tipo 5 non è stanno ready flip 20 e ne ho 20 40 ready che errore per me tutto ok 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 sei ripagato io si no non è vero è vero è vero è vero è vero un attimo eh spero adesso abbiamo in 3 di seguito quindi dovrei il percorso ecco per quanto qua prima che mi venga la nave non ci credo c'ha due di vita questo non ci credo quanto c'ha? ho vinto il quattro cento coins quattro wow basta chiudo la live bravo no fra non chiudere la live lascia l'acceso per favore ho vinto sei malato basta sto diventando ricco non ti fa sei cento venti ho vinto il quattro coins evviva ho vinto dove sei? ma quante coins hai fra io non lo so 533 ok non mi hai ancora superato flip 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 ma devi far così li sto facendo tutte flip guarda hai perso basta hai alla prossima hai di nuovo basta siete malati dai la prossima che perdo ridono 200 flip ok cazzo va pure i no justine cosa quanti ne flip un milione fai all in no no questo qua si si no non ci credo si ha vinto mille coins si cosa ha vinto mille coins cosa guardamelo come si fanno a vedere i rank teoricamente adesso dovresti vedere cosa da riccone o no 200 oh basta 500 iiii 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 dai e vince e vince intanto lo sai che lo fai direi tutto no ma se l'ho ancora il rank da riccone boh non penso 633 ma sinceramente non vedo dove si abbia allora se perdo no aspetta scusami voglio prenderne un po' di soldi per favore io adesso faccio tutti quelli che ho no dai all in all in metti all in come ho fatto io prima dai fra quanti ne hai? flippali tutti appena ne perdo due di seguito 600 grazie bingo oh no 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 è troppo mi sto spuntando mi sto spuntando ok forse il must pack è tipo 100 ah aspetta si aspetta lo tolgo no lo fa flip 500 ok bene 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 oh vinto no dai no dai un credit ball è bello che queste cose che fa una like domani noi che pecchiamo coin gli altri i got the money comunque ti ho superato o no ancora no no sono 1.100 adesso ne è qui 160 bisogna avere un po' di marketing vedi? e va a perdere assurdo ora ho messo che al massimo 50.000 li hai persi tutti? no no ok all in i all in mille sulla piazza ma anche io voglio giocare alle coins però non posso regalateli da soli regalateli da soli 500 ma non mi risponde il bot ho un altro account eh si infatti fatti un altro account flip ah ma si che mi risponde però il reward e tutte le cose non mi hanno mai dato coins vediamo se avrei vinto eh vedi no mi dice che ho ancora 5 coins ne ho sempre 5 farà fatti un altro account ce l'hai un altro account se no perchè non mi flip andi ma chi è il quarto? aspetta aspetta ok dai non ho un'idea ma no guarda il terzo e il quarto perchè io non lo sto guardando cioè io non conto come spettatore aspetta guarda la sto guardando ok questa qua di prima è la vinta ma se facessimo una bella scuota no non c'è questa cosa mi fa schifo flip eh cambia cam flip 47 no flip 53 quante coins ho? ma non sono iscritto iscriviti cazzo eh il lil c'ho 1100 ragazzi ho perso ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto veramente eh? si quanti quant'è il cifra? 1500 perchè non mi rispondo dai flip 94 ma come ho perso? flip 250 ho vinto e flip 2 dai cazzo uh flip 3 va bella che mi ho vinto va bene ok uh dai 5-5 fammi sbancare siii ma c'è cosa che cond... non posso perdere se per la macchina divertivo così quante ne ho? 22 dai dai queste qua le devo vincere cazzo ma io sono sfigatissimo vincia vincosè dai ti prego sennò vado in bancarotta proprio sì 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 grazie a dio no ho perso no ma le sto vincendo tutto non ho sentito no ho perso no stick poison flip 16 così almeno arrivano allo lo quanti ne flipo? ben c'è io zero non è ancora una cosa comunque io sono passato da avere zero cose perché li spettavo subito non so devo riprenderli ma perchè? tipo così ok basta ma pens io ti faccio iscriviti ciao pens vericamente dovrebbe venire scritto tipo che mi sono iscritto no 5 0 0 ciao pens è un po tardino però va bene va tutto bene cazzo fra ho perso tutto ci sono le monetine pens gioca con le monetine non ti porta eh gioca ma li sto prendendo tutte fra ho 50 coins io ho madonna di quant'idea una cosa no 1400 cazzo a te come va pens pensi che ne flippa 5000 pensi nei 5 i duecento c'e ne ho 25 si fa cosi oh quanti quanti avevi come? quelli più questi no finiti 25 25 dai ti prego il gioco si give me the money give me the money ok tranquillo Cortner guardatevi guardatemi guardatemi si dai ti prego Ti prego Me ne flippo Mille Cazzo E poi c'è il pensio che crede che possa Cazzo Ho vinto No way No Ti prego Ti prego Non vinci e non perdi Perché non partirò scommesso Perché è solo 5 monete Aspetta Tenete un po' Tagline a 2 Ho vinto Sì Io ho vinto 2.000 Ti prego Ti ho dato 100 monete Pains Usa le comparsi monie No Come gli hai dato 100 Dammi neanche me 100 Dai Lascia stare Che Pains c'è sempre Bravo Pains Hai vinto Bravo Pains È quasi più il coin No No è così più con gli enti Tipo che cazzo è Cordner quant'è ne ha 200 Dai ti prego Testo croce Che esce la parte giusta Adesso ho vinto Mi fermo Bravo Pains Non finire come Cordner Visto Hai fatto bene a fermarti Avresti perso Ok GG 300 Credo che io sto andando avanti dei numeri che mi sta dando lui Se ti pone faccio 220 Lui me la dà 240 No ma che cazzo è Vediamo quanti i concetti Cordner Ne hai quasi 3000 Mi sa C'è anzi Ne hai 3000 3000 Ma cos Entity Scus Facciamo una Facciamo una Ok Ok E' vero Io sto Comentendo Ok entity Facciamo una cosa Metti creativa cose No Allora Andrei Dai No Sono Allora Se vinco io Me ne dai 1000 Dei tuoi E se vinco io E se vinci tu Ti do l'olin Di quelle che ho io Cosa dai Te ne hai Nei 10 Ne hai Io ne ho Allora ascoltami Ne ho 236 Però appena ne arrivo 500 No Allora facciamo così Visto che 236 Entra nella mia isola No No tu non c'hai le armi No No Messo a posto Messo a posto Come se vinci tu Me ne hai 10.000 Allora Se vinco io Me ne dai 500 Startate il game Che io non voglio giocare Vi aspetto Dovrebbe andare tutto bene Se vinco io Me ne dai 500 Però facciamo al meglio dei 5 No almeno dei 3 frasi Meglio dei Anzi facciamo che facciamo 5 game Facciamo 5 game Chi vince tutti Vince Ma basta Perché perdo sempre Che io non voglio Ah, è una zero per me È successo qualcosa di brutto Ha tipo laggato la live e il bot è morto Che senso? Comunque adesso ci sono tante persone Scrivere live è valente Ah no, non mi risponde perché Ho sbagliato a scrivere Ho scritto filp invece che flip Cos'è che hai scritto? Filippo? Sì No, non mi risponde più Stupido bot Ma ce le ho le monete? Sì che ce le ho Cosa vuoi fare allora? Hai meglio No Perché in ogni caso se la vincere Lo vediamo Però secondo me ti conviene È meglio di tre Bravo, così vedi Io sceglierei È meglio di tre No, ho perso No, però cose che non te le devi regalare No, mi fatti c'è una zero Che fai? Se sei basso Mettitene c'è un minuto Ma no Ma tanto non Cazzeggiavo Basta adesso mi prendo Pense Mi hai sprecato tutti i punti Nei sono più 28 Vabbè non è che gli hanno avessi dati tanti Mi hanno dati 100 Vabbè in effetti a inizio live Era una 100 A inizio live Era una tantissima No, but it's here No, but it's here And no cotton Don't around Look at what you see I perché mi fai pittato non ho sentito ok ho vinto ti sta tagliano 500 si si te li tolgo 500 a me ci devo darne 500 dal da te a cortner da me dai altri 500 non ha già cambiato mi sono capito perché anzi tanto lo cerco tanto che loro fanno i loro 1v1 e tutti giochi con le tue monetine mi cerco perché se non saresti già povero non so come si usi sto rovin non mi ha fatto se non sei un bot robot ne hai fatto la roba da primo tutto lo so 736 ecco come funziona i dadi devi scrivere roll il numero che su cui punti e e i cosi che punti come quando fai abbiamo fatto batte prima ok ma cosa cosa succede se ci quel numero ti da sei volte quello che è scommesso a sei volte guarda che difficile il coso che ha puntato sui 4 ha vinto un milione di dollari in realtà non ho vinto milioni di dollari ho vinto sei volte quello che ho puntato credo che l'avessi scritto sai che tu puoi scrivere per controllare la gente punto 80 sul 3 vuoi vedere non credo no io giusto per provare punto il 7 sul 7.1 così giusto per provare non c'è 7 nei dadi non ti funziona perchè hai finite le monete cazzo vabbè dai tranquillo cortner ce la puoi fare non pensarci esatto bravo cortner bravo bravo sono tornato vabbè basta direi che è arrivata l'ora di chiudere la live mi dispiace per i vostri giochetti ma fra io ho raggiunto i mille coins vai non eh te ne da ti da un un coins ogni minuto di live che guardi però li da ogni 13 minuti cioè ti da ti da ti da ti da ti da 13 coins ogni 13 minuti di live che guardi oppure li puoi fare facendo flip e cose così oppure prima facevamo tipo dei delle scommesse strane tipo indovinare quante kill facevo in una partita così di sta roba oppure gli 1v1 così le monete in pace e io per te vabbè ehm ciao pens eeeh cortner resti volevo fare qualcosa eeeh ce ne dai 100 a quelli che sono online per aver assistito fino alla fine no ok 100 mi lasci fare mi lasci fare l'ultima scommessa e lei non piangere pens è che è tardi sono quasi quattro ore di live non mi hai fatto una live così lunga non più di qua no sono tre ore e cinquantasei minuti eeeh to bella da dai eeeh 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 's eeeh 80 eeeh 1 3 2 8 3 2 8 un comune scelte perso no te hai visto cosa c'è sta roba si 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 cortner si è vinto 3 da si ora vado fag strunz ne hai persi 1000 1500 fag hai voglia di fare delle due dive pens flippati ste 13 coins no con questa con questa sconfitta di pens direi che possiamo chiudere la live un attimo un attimo finito gli ultimi 50 così un attimo basta basta dopo di questo basta tranne se li vinco cazzo ho fatto una cazzata ho sbagliato no ho giunto uno zero come mai ti sei incazzato oggi fag riesco a parte di essere gay vabbè bella chiudo mi sono rotto ciao ciao ma non è che mi sono rotto che sono stanco ciao ciao molla molla